La partita di riferimento prevede che la stabilità è una legge con cui si approvano le spese, si autorizzano le spese, quindi è proprio contabile. Il collegato è ordinamentale. Noi abbiamo messo in pista il collegato e penso che in queste ore, in questi minuti, stia arrivando agli uffici della Presidenza del Consiglio. Questo significa che nei primi mesi del prossimo anno potremo coltivare e quindi discutere nelle varie commissioni competenti il collegato. Magari ci sarà l'occasione per poter rivedere piccole cose. Magari nel frattempo riusciremo anche a rinegoziare qualche prestito del passato, visto che mi consta che anche il Parlamento, grazie ad un'azione che è partita da questo Governo regionale, abbia approvato, stia approvando una norma che ci consente maggiore agibilità su questo. E quindi io vi pregherei, e mi rivolgo ovviamente innanzitutto alla maggioranza, di ritirare gli emendamenti che comportano maggiore spesa. Grazie. Vedo che non si è prenotato nessuno. Picarone, prego. Giusto, pure io sarei dell'opinione di sgrossare la discussione di tutti gli emendamenti. Ne segnalo però soltanto uno, che non è di spesa e che riguarda i contratti di programma. Ne parlavo prima con Massimiliano Manfredi, è un emendamento che ha la necessità di prevedere, basandosi su intese tra più istituzioni che prevedono, diciamo, nelle more della definizione di questa intesa, dei tempi. Dobbiamo approvarlo entro il 31-12 per consentire l'esplicarsi di una serie di attività, altrimenti al richiamo pregiudizio a questi contratti di programma. Quindi ha soltanto questa funzione sostanzialmente. Direi di approvare almeno solo questo. Valeria Cerambino, prego. Grazie Presidente, sarò breve e mi concentrerò sulla sostanza del provvedimento. Faccio seguito a quanto dichiarato dall'assessore, ovvero sulla compressione, diciamo, ancora più consistente di sempre, della spesa libera e dunque della possibilità, diciamo, di azione del Consiglio regionale rispetto al bilancio. Date queste premesse, anzitutto io mi auguro che siano definitivamente scongiurate le ipotesi paventate dall'assessore in Commissione e bilancio di un incremento del carico fiscale, perché sarebbe gravissimo in un momento tanto critico per la nostra regione. Ma, proprio date queste premesse, vengo alla legge di stabilità che oggi votiamo in quest'Aula. Io mi sono chiesta che cosa penserebbe un cittadino della Campania che vive quello che sappiamo, soprattutto, diciamo, se non ha uno stipendio fisso che gli arriva ogni mese sul conto corrente, nel leggere questa legge di stabilità, dove, piuttosto che orientare tutte le energie in un'unica direzione, le poche energie, assessore, ma comunque le energie in un'unica direzione, ossia quella del sostegno alle famiglie e alle imprese, noi ci siamo permessi di inserire in questa legge 250.000 euro alle associazioni dei combattenti e 300.000 negli anni a venire, un contributo di 60.000 euro per un'area feristica, poi abbiamo dato per l'ennesima volta 3 milioni di euro al villaggio dei ragazzi, ahimè non per, diciamo, attività benefiche dell'ente, ma, credo, come già avvenuto in passato, per pagarne i debiti, poi abbiamo, siamo ancora intervenuti con una serie di ulteriori microprovvedimenti sparsi, insomma, da questa legge di stabilità non emerge quello che invece io e noi avremmo auspicato, ovvero finalizzare tutte le risorse disponibili a fare interventi sostanziali e concreti a supporto delle famiglie e delle imprese. Eppure il Movimento 5 Stelle, che ha scelto di tenere, lo ripeto, una linea di sobrietà e di responsabilità, e credo, insomma, che il lavoro fatto in Commissione, anche insieme al Presidente della Commissione, che ringrazio per l'ascolto e per l'attenzione, perché ha ascoltato ogni singola nostra proposta, andasse in questa direzione. Noi avevamo chiesto, per esempio, l'istituzione di un fondo per supportare le microimprese e i commercianti nell'adeguamento degli strumenti tecnologici al cashback. Avevamo chiesto un fondo per l'usura, ce lo dicono tutti, questo è un allarme gravissimo, che riguarda tutti, ma soprattutto la nostra Regione, con le condizioni critiche in cui si trovano imprese e cittadini, tantissimi stanno già cadendo preda dell'usura. Avevamo chiesto l'istituzione, il finanziamento dei distretti del commercio, che sono forme di partenariato pubblico-privato a livello degli enti locali, per far partire quello che era previsto all'interno della legge del testo unico del commercio, dei luoghi importanti per rilanciare le attività commerciali dei territori. Avevamo chiesto il reclutamento nel sistema sanitario regionale all'interno del piano dei fabbisogni e delle unità di personale necessarie a rendere strutturali le 73 ambulanze previste dal piano di potenziamento Covid. Teniamocele organicamente e strutturalmente nel nostro sistema sanitario. Avevamo previsto l'attivazione di uno sportello Europa, perché le imprese, soprattutto quelle più piccole, quelle giovani, ci dicono che non hanno neanche conoscenza, adeguato accesso alle informazioni per quanto riguarda i bandi. E allora creiamo un luogo fisico e virtuale che possa supportare informativamente e tecnicamente le imprese. Avevamo chiesto l'attivazione della telemedicina nelle aree interne, dove spesso non soltanto mancano i presidi ospedalieri, ma neanche i medici di base che vanno in pensione vengono sostituiti. Avevamo chiesto un intervento a sostegno delle famiglie povere per consentire un contributo alla spesa dei dispositivi di protezione, delle mascherine. Avevamo chiesto un supporto e un rilancio delle eccellenze artigianali napoletane, dell'arte orafa. Avevamo chiesto, e questo è un tema su cui richiamo veramente l'attenzione di tutti, perché è un tema a costo zero, Assessore, quindi questo non è un emendamento da ritirare, l'istituzione di un fondo per la povertà. Povertà che oggi è un termine che non riguarda più le categorie usuali a cui siamo abituati. Povertà oggi è un termine purtroppo dilagante, che coinvolge anche chi fino a ieri si poteva permettere addirittura lussi. Oggi abbiamo situazioni di difficoltà estrema. Allora noi che cosa abbiamo chiesto? L'istituzione di un fondo che venga finanziato anzitutto col taglio degli stipendi, dei consiglieri regionali, degli assessori, del Presidente della Regione ed eventualmente anche dai privati. Non pretendiamo, lo sappiamo, di risolvere il problema delle criticità del tessuto sociale ed economico, ma staremmo dando un segnale, perché immaginatevi cosa voglia dire doversi trovare con la saracinesca abbassata, dover vedere andare in fumo anni e anni di sacrifici, mentre sui nostri conti correnti ogni mese arrivano fior fior di migliaia di euro. Sarebbe un segnale di vicinanza che io trovo obbligato, necessario, in un momento del genere. Avevamo ancora chiesto una cabina di regia per il recovery fund. Abbiamo visto quello che sta accadendo in questi giorni con provvedimenti assunti dalla Regione, non condivisi quelle categorie imprenditoriali che determinano malcontento e non solo determinano perdite, che si assommano alle perdite diventate strutturali in questa emergenza pandemica, solo perché non si è stabilito un luogo di confronto e di condivisione. Ora, questo non dovrebbe accadere con riguardo alle risorse del recovery fund, visto che parliamo di un'opportunità storica che se perdiamo non si ripresenterà mai più, segnerà il declino probabilmente irrevocabile dei nostri territori. Allora, io ho presentato un emendamento insieme al mio gruppo in cui ho chiesto un luogo di confronto permanente con i membri di questo Consiglio, delle forze politiche e con le associazioni di categoria. Il Presidente Picarone ha inserito dentro la risoluzione di maggioranza qualcosa che non è quello che io volevo, perché ha inserito l'obbio, ovvero che la Commissione Bilancio diventa il luogo in cui la Giunta va a raccontare come si spendono i soldi del recovery fund. Presidente, ci mancherebbe, mi sembra la palistiano che questo debba essere fatto. Noi chiediamo qualcosa di più forte, altrimenti continuiamo a chiedere più fondi, ma non siamo coinvolti nella possibilità anche di definire le linee di indirizzo per la spesa o di controllare l'efficacia della spesa. Ora, di tutti questi provvedimenti, alcuni sono stati approvati e credo che vanno a valorizzare anche fortemente questo documento. Come diceva il Presidente Picarone, è stata approvata la nostra misura che riguarda la possibilità di utilizzare la bicicletta per andare al lavoro. Ricordo tempi in cui siamo stati canzonati per queste proposte. Oggi queste diventano delle risposte, sebbene minimali, ma comunque importanti in una situazione in cui c'è un momento critico per il trasporto pubblico in virtù dell'emergenza. La valorizzazione dei siti UNESCO della Campania, il contributo per i dispositivi di protezione individuale, il rifinanziamento della legge Banca della Terra con cui assegnare terreni incolti ai giovani, le comunità energetiche, il rifinanziamento del fondo per l'export delle imprese, il finanziamento e dunque finalmente l'operatività dei distretti commerciali, la nascita di un museo del motore. Voglio infine concludere con un altro richiamo. C'è un altro emendamento che noi abbiamo presentato, che riguarda i saldi. E lo dico all'assessore Marchiello. Sapete che io ho condotto una battaglia in nome e per conto, dando voce alle associazioni dei commercianti campani a luglio scorso, quando nell'imminenza della fine del primo lockdown noi ci ritrovavamo come regione ingessati per un'assurdità che abbiamo commesso, ovvero disciplinare dentro il testo unico del commercio che la normativa sulla data di avvio dei saldi, la scelta sulla data di avvio dei saldi fosse delegata alla conferenza Stato-Regioni. Cioè noi abbiamo preso una potestà regionale e l'abbiamo delegata. Questo ha determinato purtroppo gravi danni durante la prima fase dell'emergenza, tant'è che si è dovuto intervenire a seguito di una proposta da me e sottoposta all'Aule approvata per una immediata riunione della conferenza e quindi si sono anticipati i saldi. Allora io propongo di riprenderci stabilmente e definitivamente questa potestà. So che le associazioni ne hanno già parlato con l'assessore e quindi io non vedo motivo per procrastinare l'approvazione di questa norma che ho riproposto come emendamento alla legge di stabilità. Grazie. Non vedo altri interventi. Prego, assessore Marchiello. Chiesta noi l'abbiamo già inserita. Posso? Ecco. Allora, la previsione noi l'abbiamo fatta nel collegato che arriverà in consiglio in giornata, quindi già c'è. Abbiamo ripreso come Regione Campania la nostra potestà sui saldi. Grazie. Non ci sono altri interventi. Ritengo di iniziare la votazione sugli emendamenti, i singoli articoli. Articolo 1, di finanziamento delle leggi regionali di spesa. Chi è a favore? Chi è a favore? Ci sei prenotato sull'articolo 1? Allora, l'articolo 1. Chi è a favore? Chi si astiene? Chi è contrario? E' approvato. Articolo 2. C'è un emendamento ritirato di Andrea Volpe. Appena vuole parlare su un articolo, me lo dice, gli do la parola. Per la verità, non c'era nessuno. Può fare la dichiarazione di voto? Alla fine fa la dichiarazione di voto. Vabbè. L'emendamento 2.1 ritirato. 2.2 Carpentieri. Carpentieri, prego. Vuole parlare? Prego, la parola a Carpentieri. Grazie Presidente. Allora, il mio emendamento, ecco, l'ho presentato insieme agli amici del gruppo Fratelli d'Italia, ha per oggetto l'alvio comune Nocerino e il ponte Marconi. L'alvio comune Nocerino è un torrente che ha una lunghezza di 6,5 km, nasce nel comune di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, dove raccoglie le acque della Solofrana e della Cavaiola ed è il maggiore tributario del fiume Sarno. puntualmente, appena ci sono piogge anche poche intense, in località San Marzano, a monte di questo ponte, a causa di tantissimi rifiuti, per lo più vegetali, ma soprattutto la causa, così come è stato dichiarato ed è stato messo, diciamo, per iscritto dal genio civile di Salerno, la causa di tutto ciò è la realizzazione dell'impalco della struttura del ponte, perché è stato realizzato, e non si sa neanche chi lo ha realizzato, e questo lo dice il genio civile, ecco, a un livello molto basso rispetto al letto dell'alvio. e quindi con la presenza di rifiuti si crea un tappo, si diminuisce la sezione dell'alvio e puntualmente, ripetutamente, ci sono esondazioni, allagamenti, che i cari consiglieri regionali della provincia di Salerno sanno benissimo, ci sono danni alle coltivazioni, a cose, alle abitazioni. Ci sono veramente tantissime famiglie in ginocchio puntualmente quando piove e non hanno neanche più la forza di lamentarsi perché si trovano veramente in difficoltà. Un anno fa, nel mese di ottobre 2019, il genio civile, con una somma pari a 100.000 euro, incaricò il consorzio di bonifica dell'agronocino sarnese per ripulire i rifiuti. Appena dopo nove mesi e precisamente due mesi fa, la Direzione Generale dei Lavori Pubblici della Regione Campania, insieme alla Protezione Civile, hanno stanziato altri 270.000 euro sempre per rimuovere i rifiuti. Il genio civile e la SMA Campania, perché tutto questo è stato fatto anche attraverso la SMA Campania, hanno messo per iscritto che necessariamente il ponte deve essere demolito. Uno, perché è stato dichiarato illegittimo, non si sa chi lo ha realizzato, ma soprattutto perché è sprovvisto di autorizzazione sismica ed idraulica. E questo è scritto dal genio civile e dalla SMA. E allora il mio emendamento che cosa prevede? Prevede la rimozione dei rifiuti, perché lì è una cosa molto molto seria. Prima mi sono confrontato con l'assessore Bonavitarlo, che ringrazio per la sua disponibilità, si è creato un tappo, che io definisco tappo della morte, perché appena ci saranno piogge a malapene intense, succederà una tragedia. E allora prevede la rimozione dei rifiuti, la demolizione del ponte, così come dichiarato dal genio civile, con la contestuale rifunzionalizzazione dell'impianto di grigliatura di Foce e Farno, per evitare che i rifiuti poi possano arrivare direttamente a mare e quindi causare un disastro ambientale. Perché oggi la SMA e il genio civile, forse anche la regione campana, dicono che non dobbiamo ancora abbattere il ponte, perché il ponte trattiene i rifiuti, ma la funzione del ponte non è quella di trattere i rifiuti assolutamente, è ben altra. E allora io faccio appello alla determinazione del governatore De Luca, alla conoscenza della problematica dell'assessore Bonavitaco e dico ai miei cari colleghi consiglieri di maggioranza e di minoranza, ascoltatemi bene, al di là degli schieramenti politici, al di là della fede di partito di ognuno di noi, al di là di ogni speranza, tutti insieme dobbiamo intervenire, perché dobbiamo veramente evitare una tragedia e dobbiamo dimostrare al popolo campanio che esistono ancora donne e uomini capaci di affrontare e risolvere le problematiche. E io sono certo che su questo punto troverò l'intesa, perché tanti miei cari colleghi conoscono la problematica e conoscono le difficoltà, ecco, di tantissime famiglie che sono state abbandonate e non hanno più fiducia nelle istituzioni. Lei, caro collega Picarone, è stato tante volte in quelle zone, sa veramente quello che succede quando piove normalmente e allora evitiamo, evitiamo, ripeto, una tragedia. Grazie. Allora Picarone. No, no, un secondo. Ricevo una nota dall'assessore Bonavitacola che invita a ritiro dell'emendamento con impegno ad affrontare il problema con Ingenio Civile e Direzione Generale Rifiuti ad iniziativa del suo assessorato, di lui personalmente, che già è intervenuto su questo tema in passato. Il 2.2 è ritirato. Passiamo alla votazione dell'articolo 2 per l'alzata di mano. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene. L'articolo 2 è passato a maggioranza, col voto contrario delle opposizioni. articolo 3. Passiamo alla votazione dell'articolo 3 per l'alzata di mano. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene. A maggioranza è passato all'articolo 3. Sull'articolo 4 c'è un emendamento 4.1 a firma di Giovanni Zannini. Prego, Giovanni Zannini. Mi riporto al testo dell'emendamento, un intervento necessario per soddisfare esigenze di sicurezza cittadina. E il Presidente della Commissione Bilancia? C'era un invito a ritirare tutti questi emendamenti, abbiamo detto al limite della discussione. Ritira l'emendamento, Zannini. Ritirato l'emendamento, allora. L'emendamento è ritirato, il 4.1 è ritirato. 4.2. A firma di Muscarà. Prego, consigliera Muscarà. Allora, grazie Presidente della parola. Io comprendo naturalmente quali possono essere i vincoli di bilancio che rendono magari difficile la realizzazione di questo mio emendamento. e che riguarda un pezzo di Napoli che purtroppo, ripropongo ogni volta, sembra che nessuno lo conosca, invece è un pezzo di Napoli importantissimo. Per questo monumento, voi pensate che ci sono, in questo monumento c'è la tomba di Virgilio? Ed è una strada, un'antica strada romana che metterebbe in comunicazione due quartieri di Napoli, evitando di utilizzare la Galleria della Vittoria. Questo monumento, che è strada, strada romana, che è stata usata per 2.000 anni, potrebbe essere rimesso a posto. Il Comune di Napoli, ahimè, è proprietario di questa cripta, di questa strada, e negli anni è riuscito soltanto a dissipare, dai tempi di Rosetta e Iervolino, molti fondi senza arrivare alla conclusione. Comprendo che sarà bocciato, perché la cifra è anche abbastanza elevata. Invito soltanto a una riflessione. Si sono spesi molti soldi, ad esempio, per una ciclabile che io non condivido, perché è un pezzo estraneo alla Regione, buttato lì, senza essere armonizzato con un piano, un piano che non c'è. Questa è una strada pedonale che mette in comunicazione Fuorigrotta e Mergellina. L'invito, naturalmente, è soltanto quello di riguardare questo provvedimento per inserirlo lì dove sarà opportuno. Grazie. Grazie, signor Presidente. Chi è a favore? Chi è contro? L'eventamento è respinto. Il 4.2 è respinto. Passiamo alla votazione dell'articolo 4. Chi è a favore? Chi è a favore? Sull'articolo. Prego, Cascone. Sì, un articolo che riguarda la mobilità, quindi ovviamente un ringraziamento per il rifinanziamento dei fondi sul tema degli abbonamenti dati degli studenti. Ovviamente, come sapete, è un programma da circa 30 milioni di euro che noi, ovviamente, e l'Aggiunta di Luca per esegue da 5 anni e col contributo anche dei fondi dell'FSR esce a completare un programma da 130 mila studenti. Il comma 2, che è un comma che stanzia 160 mila euro per il finanziamento di due mezzi dedicati al trasporto pubblico locale per i comuni di Giuliano e Nola, ovviamente immagino si tratta di scuola a bus perché l'importo rispetto a un mezzo di trasporto di TPL è abbastanza basso perché i mezzi più piccoli che sono stati acquistati nel grande programma regionale costano circa 150 mila euro. Io credo che qua vada evidenziato lo sforzo che ha fatto l'Aggiunta di Luca. Quasi 200 milioni di euro per acquistare 1.000 autobus, siamo arrivati alla consegna per circa 6-700, 1.000 autobus per ricambiare il parco mezzi del TPL regionale che conta circa 2.700-2.800 autobus, quindi arriveremo ad una cifra di mezzi nuovi superiore al 30%, altri 30 milioni che da qua al 2021 verranno banditi per ulteriori circa 300 autobus, io dico circa perché poi dipende sempre dall'offerta in gara che può far aumentare leggermente del 10-15%, quindi è un emendamento molto particolare per carità nell'equilibrio generale di dare risposte a tutti quanti, è un emendamento che viene accolto, viene votato e va bene così, ma noi dobbiamo pensare al grande lavoro che è stato fatto su scala regionale per il TPL, 1.000-1.200 autobus per oltre 200-220 milioni di investimento, grazie. Grazie, Cirillo. Allora, noi votiamo a favore di questo articolo perché contiene delle cose importanti, i 15 milioni all'anno sono le tre annualità per gli studenti, la bonanda gratuita è una cosa che l'abbiamo studiuta anche 5 anni fa nella nostra campagna età nel 2015, è una cosa sosteniamo ancora, è una cosa che è importante, tra l'altro è contenuto anche nel DEF, io prima volevo fare un intervento, non c'è stato tempo, mi riallaccio ad ora, perché è un appello che faccio direttamente alla Giunta in quanto è chiaro che la strategia dell'università passa anche per l'abbonamento gratuito agli studenti, passa anche per le altre cose inserite all'interno del DEF, incrementare le spese, le infrastrutture, si parla di Scampia, si a Giannata e Duccio, va bene, si parla di borsi di studio, va bene, ci sono anche altri progetti, rifletta l'Academy, a IOS Developer, ci sono tante cose importanti, però io faccio ragione un po' più spicciolo anche, che tutti i servizi per essere erogati effettivamente hanno anche bisogno di una macchina che sia in grado di erogare quei servizi, incrementare il numero di borsi di studio dal punto di vista anche delle modalità con cui verranno date, mantenendo lo stesso organico dell'ente che gestisce quel servizio, che ha già avuto delle criticità e dei ritardi in tutti gli anni da quando esiste l'Avisurc, tu non vai fare atto che continui a gravare sullo stesso organico e quindi continui a rallentare quei lavori. Allora io mi aspetto anche che nei prossimi provvedimenti in cui si parlerà di università e oggi l'unico punto in cui nel bilancio si parla riguarda l'abbonamento gratuito agli studenti, non ci sono altre voci rispetto a questo tema qua, se si vuole attuare quello che c'è scritto in quel documento che abbiamo votato stamattina, è chiaro che si deve affrontare quel tema dell'implementazione dell'organico perché mantenere lo stesso personale che fondamentalmente proviene dalle vecchie disciolte Adiso, che tra l'altro si è ridotto nel corso dell'ultimo anno di un'unità, faccio proprio i conti della Salomera, allora tu non riuscire a garantire quei servizi, ancora oggi gli studenti però lamentano il fatto che a dicembre si è pagato il contributo in mobilità internazionale del 2016-17, per alcune università che hanno erogato il ritardo, i dati, poi c'è il problema della informatizzazione dei dati, ok. Allora la Regione Campania che può fare? È vero che le università hanno delle colpe per quanto riguarda in alcuni casi la trasmissione dei dati all'Adis Urco, però se la Regione non mette mano a questa pianta organica, io ricordo nel Consiglio regionale che si fu fatto un anno fa con la storia Fortini, all'epoca abbiamo parlato di questa implementazione di pianta organica, l'assessore già all'epoca disse ci metteremo al lavoro, ma da quell'enunciazione di quel Consiglio regionale monotematico su quel tema ad oggi non c'è stata nessuna implementazione di pianta organica, io non voglio puntare il dito su nessuno, voglio dire un'altra cosa, diamo seguito a quello che c'è scritto in quel documento, diamo seguito a quello che ha dichiarato l'assessore un anno fa, diamo seguito a degli obiettivi, altrimenti diamo l'abbonamento per gli studenti a cui non dobbiamo più consentire che si facciano interruzioni sospensioni come è accaduto questo novembre, quando a un certo punto lei aveva sospeso l'abbonamento gratuito perché la campana è in zona rossa, quando è vero che non si poteva andare in frequenza, però c'erano sempre dei libri ad andare a prendere ai punti in cui arrivavano i testi persone da altri comuni che non potevano raggiungere se non a pagamento quei luoghi, è chiaro che qualche cosa non ha funzionato, senza sospensioni mai più una parola del genere se si fornisce questo servizio agli studenti, questo lo dico come appello l'ha raggiunta presso l'EAV, l'appello quindi riguarderà l'incrementazione però per davvero la pianta organica, altrimenti non faremo un bel servizio per gli studenti da campania, questa è una raccomandazione che faccio al governo e comunque le potete favorevo rispetto ai contenuti di questo articolo, grazie. Come si chiama il consigliere? Prego Questo provvedimento, perché è un provvedimento importante, anzi ringrazio l'amministrazione precedente che l'ha già avviato anni addietro, specialmente in questo momento particolare di coronavirus ed esigenza delle famiglie, noi della Lega siamo favorevoli a questo articolo, grazie. Passa alla votazione dell'articolo 4 Benissimo, allora, va bene, chi è a favore dell'articolo 4? Allora all'unanimità l'articolo 4 è approvato. Articolo 5, non ci sono emendamenti, chi è a favore, chi è contro, chi si astiene, l'articolo 5 è approvato. Articolo 6, non ci sono emendamenti, chi è a favore, chi è contro, è un emendamento aggiuntivo. Allora, articolo 6, versiamo la votazione dell'articolo 6, chi è a favore, chi si astiene, è contro, l'articolo 6 è approvato, 6.0.1, che sarebbe il 6 bis a firma dei 5 stelle. Prego, firma di Saiello. Sì, Presidente, in realtà il Consigliere Saiello è collegato, non so se riesce a intervenire lui. No, sta lì, eccolo lì. Ah, ok, perfetto. Allora lascio a lui la parola. Prego, Saiello. Presidente, grazie. Questo emendamento rientra nell'ambito delle misure che prevedono interventi per le vittime dell'usura e dell'estorsione. In un momento difficile come questo, così drammatico, il rischio di finire nelle mani, per le famiglie e per le imprese, di finire nelle mani della malavita organizzata per l'indebitamento e per l'usura è molto alto e aumentato. Quindi con questo emendamento noi chiediamo di istituire un fondo proprio per dare una mano ed evitare che possano innescarsi questi fenomeni. Buonga votazione l'articolo 6 bis. Affirma Saiello. Chi è a favore? Chi si astiene? Chi è contrario? L'eventamento è respinto. articolo 7. C'è un 7.1 a firma di Gennaro Oliviero riguarda l'osservatorio civile. È una cosa, è un rifinanziamento di una legge vecchia dell'osservatorio civile. Chi è a favore? Chi si astiene? Chi è contrario? L'eventamento è approvato. Il 7.2 è ritirato. L'articolo 7.2 è ritirato. Votiamo l'articolo 7 così come è modificato. Chi è a favore? Chi si astiene? Chi è contrario? L'articolo 7 approvato. L'articolo 7.0.1 aggiuntivo del 7, il 7 bis, Movimento 5 Stelle. Prego. Maria, l'ho trovato, me l'ero messo da parte. Grazie Presidente. Questo è l'emendamento di cui discutevo nella mia introduzione, ovvero interventi di sostegno alle persone colpite da povertà e disagio sociale. Con questo emendamento noi proponiamo l'istituzione di un fondo per il sostegno alle persone colpite da povertà e disagio sociale derivanti dall'emergenza. Questo fondo è anzitutto alimentato con il taglio degli stipendi di noi consiglieri regionali e dell'aggiunta tutta, ovvero rimodulando l'indennità di carica a 5.000 euro lordi, sospendendo e diciamo meglio riversando nel fondo l'indennità di funzione e decurtando del 30% i rimborsi spese per l'esercizio del mandato. A ciò possono aggiungersi i contributi di privati o appunto di altri enti. Credo che questo sarebbe un segnale importantissimo da dare ai cittadini perché immagino che le persone scrivano a voi come scrivono a me e ci chiedono di dare un segnale in questo senso. Grazie. La votazione è l'articolo 7b, si affirma dal Consigliere Cianambino. Chi ha a favore? Chi si astiene? Chi è contrario? Lementamente respinto. Articolo 8. Chi è a favore? Chi si astiene? Chi è contrario? L'articolo 8 è approvato all'unanimità. 8.0.1. Affirma Ciampi. Ciampi è presente? Se non è presente è decaduto. Vabbè lo fai proprio. Camarano lo assume. Prego. Allora mi rendo conto che è complicato inserire il bilancio però magari ne possiamo riparlare al collegato vorrebbe essere utile. Avevamo richiesto l'esenzione della tassa regionale in base ai comuni elencati nella strategia nazionale delle aree interne. Può essere un segno per i cittadini della campagna visto che la maggior parte di questi comuni ha tassa regionale e ovviamente ha delle strade a dir poco miserrime dal punto di vista viatico. Poniamo in votazione l'articolo 8.0.1. Affirma di Camarano. Chi è a favore? Chi si astiene? Chi è contrario? L'eventamento è respinto. Articolo 9. Chi ha a favore? L'articolo 9. Chi si astiene? Chi è contrario? L'articolo 9 è approvato. Articolo 10. Chi ha a favore? L'articolo 10. Chi si astiene? Chi è contrario? L'articolo 10 è approvato a maggioranza. Articolo 11. Chi ha a favore? L'articolo 11. Chi si astiene? Chi è contrario? Approvato all'unanimità. Articolo 12. Chi ha a favore? L'articolo 12. Approvato all'unanimità. Articolo 13. Chi ha a favore? L'articolo 13. Chi si astiene? Chi è contrario? Approvato a maggioranza. Articolo 14.1. Affirma Fiola. La consigliera Fiola vuole illustrarlo? Lo ritira? C'è il 14.1. Lo pongo a votazione. No, no. 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 Questo è quei soldi, eccolo. Vabbè, comunque è passato. Non si preoccupa. Allora, articolo 14.1. Articolo 14.1. L'articolo 14.1. Consigliera Fiola che fa? Vuole illustrarlo? Lo illustri. Prego, consigliera Fiola. Sì, l'articolo si propone di istituire una… Continuo? Al fine di promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile tra i giovani, per supportare progetti redatti da enti locali, università, scuole, predispone entro 90 giorni una delibera per attuare un piano per il premio della cultura della legalità. Questo è un emendamento del quale ho discusso sia con l'assessore che con il presidente della commissione bilancio, al quale si è attaccato anche un altro sub emendamento per un importo di 20.000 euro, 30.000 euro, che le scuole faranno poi dei progetti per il premio della cultura della legalità. Prego, prego, assessore. Allora, posso… Prima che venga posto in votazione, se dovesse essere accolto la somma è, diciamo, assolutamente contenuta. Io chiederei che possa essere riformulato, ma anche e soprattutto finalizzato al finanziamento per il momento solo sul 21, perché sul 22 e 23 non ho proprio possibilità di intervenire. Poi, se lo sto dicendo non è che me lo sto inventando. Allora accogliamo la modifica proposta per l'assessore e poniamo la votazione. Nell'editing facciamo questa cosa. 30.000, soltanto per l'esercizio 21. Chi è a favore? Prego, Nappi. La Lega è disponibile a votare questo emendamento, riconoscendo che l'azione a tutela della legalità e della sicurezza è una priorità di questa Regione e quindi nel complesso riteniamo che sia doveroso sostenere. Va bene. Quindi passa la votazione. Chi è a favore? Quindi l'articolo firmato, Carmela Fiolo, 14.1 è approvato all'unanimità. Passiamo all'approvazione dell'articolo 14, così come è modificato. Chi è a favore? Quindi all'unanimità, l'articolo 14 è approvato. Articolo 15, cioè il 15.1, affirma Zannini. Zannini, ritirato. Articolo 15, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. No, quindi ti astieni. A maggioranza è approvato l'articolo 15. Contro. Col voto contrario della Lega e dei Fratelli d'Italia e Forza Italia, del centro-destra. Col voto favorevole dei 5 Stelle, giusto? Ok. Articolo 16, mettiamo in votazione l'articolo 16. Chi è a favore? Chi si astiene? Chi è contrario? Contrario il centro-destra? Il centro-destra è contrario all'articolo 16? Allora, a maggioranza è approvato l'articolo 16. C'è il 16.0.1 del Movimento 5 Stelle, affirma Saiello. Prego, Saiello. Signor Presidente, al fine di sostenere lo sviluppo delle attività del design e dell'arte orafa napoletana inserite nell'antica zona del Borgo Refici, si chiede di istituire un fondo ad hoc per ricreare presupposti di rilancio economico, opportunità di formazione e incrementare anche l'occupazione giovanile. Presidente, chi ha a favore dell'elementamento Saiello? Chi si astiene? Chi è contrario? Elementamente il respinto. Articolo 17, chi ha a favore dell'articolo 17? Sull'articolo 17 interviene Cerambino. Prego. Presidente, sono particolarmente fiera dell'approvazione di questo nostro emendamento che oggi viene inserito nella legge di stabilità, perché sebbene la dotazione finanziaria sia esigua e relativa al 2021 è comunque un punto di partenza, lo ripeto, per realizzare sui nostri territori, all'interno dei nostri comuni, questa dimensione che ad oggi non c'è di partenariato pubblico privato per il sostegno alle attività commerciali e quindi è un po' d'ossigeno per queste imprese, io mi auguro, e mi auguro che sia semplicemente l'inizio e che poi si intervenga con un successivo rifinanziamento. Grazie. Buongiorno a votazione dell'articolo 17, chi ha a favore, chi si astiene, chi è controllo, quindi all'unanimità, l'articolo 17 all'unanimità, vi astenete, quindi a maggioranza. L'articolo 17 è approvato, articolo 18, chi ha a favore dell'articolo 18, chi si astiene, Presidente, questo è un altro risultato che il gruppo del Movimento 5 Stelle porta a casa, interventi per la valorizzazione delle vocazioni territoriali, sono particolarmente fiera perché grazie a questo finanziamento si potrà iniziare sul territorio di Pomigliano d'Arco, che è l'area industriale più importante del sud Italia, finalmente un'iniziativa di Museo del Motore con appunto anche una giornata di celebrazione di queste eccellenze industriali del nostro territorio che mi auguro possa essere occasione anche di rilancio dal punto di vista dell'attrazione dei nostri territori. A Torino c'è un museo dell'auto straordinario, bellissimo, che attira tantissimi visitatori, non vedo perché sui nostri territori dove abbiamo, lo ripeto, anche delle eccellenze industriali non possa accadere lo stesso. Grazie. Ponga votazione all'articolo 18, chi è a favore? Il centrodestra che fa? Allora, chi è a favore? A maggioranza l'articolo 18 è approvato. Col voto è favorevole dei 5 Stelle e contrario del centrodestra. Articolo 19, allora articolo 19, chi è a favore all'articolo 19? Chi si astiene? Chi è contrario? Sul 19? Vi astenete? A maggioranza è approvato all'articolo 19. C'è subemendamento a firma Grimaldi che è decaduto. Ok. C'è subemendamento a firma Grimaldi che è decaduto perché è assente. Emendamento 19.01.0.1 a firma Cammarano. Prego Cammarano. Su questo tema noi abbiamo avuto un settore che è nato negli ultimi anni, è cresciuto, sta rendendo gli atti numeri ma sta crollando nell'arco di 4 mesi. E di stamattina la notizia della CIA per cui il 90% del fatturato dei piccoli bidifici artigianali è caduto ma essendo un codice Ateco che lo accumula i grossi bidifici industriali non ha avuto ristori né da parte dello Stato né da parte delle Regioni. Io capisco che non abbiamo spazio nel bilancio anche perché la cifra è elevata, però riserviamoci magari nel collegato di cominciare a capire come salvare queste aziende che sono giovani, hanno assunto dipendenti, hanno fatto anche un sacco di investimenti, in campagna ne abbiamo tanti e sono anche di eccellenza nazionale dell'Unione Europea. Grazie. Prego i colleghi all'esterno di prendere posto che siamo in votazione. Colleghi, prendete posto, siamo in votazione. Ponga la votazione l'articolo 19 bis, così come da poco illustrato dal collega Gammarano, chi è a favore, chi si astiene, chi è contrario, è respinto a maggioranza. Articolo 20. Ponga a votazione l'articolo 20. All'articolo 20. Un attimo, i dati sono aggiuntivi, vieni dopo. No, ma è l'articolo 20. Ah, prego, prego Gammarano. Allora, Presidente, buongiorno. Io ringrazio il Presidente Piccarone per aver raccolto la nostra proposta sulle comunità energetiche. Io credo che questo sia un tema del futuro e direi anche di essere attenti sulla costituzione di queste cooperative, perché vorrei che la campagna non fosse solo la prima per quantità di energia prodotta, ma anche per il numero di comunità. Grazie. Ponga a votazione l'articolo 20. Chi è a favore? Il centrodestra che fa? Sull'articolo 20. Centrodestra. Caldoro, non distrarvi, astenete. Articolo 20, approvata maggioranza. 20.0.1, a firma di Maria Luigia Iodice. Prego, consigliere Iodice. Ritirato. 20.0.2, a firma di Visconti. Prego. Capisco la restrittezza come ha detto l'assessore per quanto riguarda le capacità di bilancio, però volevo solo, se non può essere accolto, volevo solo significare anche la difficoltà di questa categoria che sono appunto tutti gli operatori pirotecnici che in questo momento di pandemia c'è una difficoltà enorme come tutti gli altri settori. Ponga in votazione l'emendamento 20.0.1, a favore di Visconti. Allora, l'accogliamo come raccomandazione, come è indicato dal Presidente dell'Aggiunta regionale. Trasformiamo questo emendamento in una raccomandazione a bilancio. Grazie. Articolo 21. Chi è a favore? L'articolo 21, alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? A maggioranza è approvato l'articolo 21. 21.0.1, a firma Caldoro ed altri. Prego Caldoro. Presidente, se lei mi lo permette, noi abbiamo presentato tre emendamenti, due sono articoli aggiuntivi che sono stati sistemati così, del centro-destra con la firma di tutti, quindi io sarò brevissimo, se lei mi dà la possibilità che non intervengo dopo. Sono tre interventi... Quindi lei illustra tutti e tre emendamenti, benissimo. Sì, sì, bravo, considererei interventi tutte e tre, visto che le posso collegare. Così come nella legge di bilancio in Commissione abbiamo proposto iniziative ed emendamenti sui ristori e quindi su tutte le misure anticrisi, che per ragioni chiaramente di restrittezza e bilancio non hanno avuto la copertura, non è il parere favorevole né degli uffici tecnici né della Giunta, è evidente che sono impegni finanziari molto importanti, quanto meritano le aziende in crisi chiaramente. Questi sono tre provvedimenti, uno sulla tassa automobilistica che è la riduzione del 50%, poi chiaramente lasciamo alla Giunta la finalità per quanto riguarda le coperture. Una che riguarda l'indelità Naspi, che è una forma di integrazione da parte della Regione attraverso una convenzione con l'Inps e l'ultimo riguarda, rivolta ai datori di lavoro, che è un'integrazione all'esonero contributivo. Quindi sono tre misure dove la Regione può intervenire, chiaramente integrando risorse nel proprio bilancio per favorire situazioni di difficoltà economica, sia per la Naspi dei lavoratori autonomi sostanzialmente, perché come sapete il decreto, una vecchia legge del 2015 prevede una riduzione della Naspi del 3% per ogni anno, quindi le Regioni potrebbero integrare questi finanziamenti per i loro cittadini e il resto riguarda i datori di lavoro, come ho detto, è una cosa più rivolta a Erga Omnes a tutti i cittadini sulla riduzione del 50% della tassa automobilistica. È evidente che sono posizioni politiche, segnali di politica e di bilancio e che lasciamo come testimonianza, ci rendiamo conto della difficoltà da parte dell'aggiunta delle coperture finanziarie, però valgono nel dibattito per dare un segnale di come secondo noi si dovrebbe affrontare questa crisi economica. Il 21.0.2, chi ha favore? Chiaramente il centro-destra, chi si astiene? Chi è contrario? Centro-sinistra, alla maggioranza il l'emendamento è respinto. 21.0.3, affirma sempre Di Caldore ed altri, chi è a favore? Chi si astiene? Chi è contrario? L'emendamento è respinto. Articolo 22.0.2, chi ha favore? Chi è contrario? Chi è contrario? Chi si astiene? A maggioranza l'articolo 23 è approvato. Articolo 24.0.2, chi ha favore? Chi si astiene? Chi è contrario? L'articolo 25 è approvato. A maggioranza l'articolo 26.0.2, chi si astiene? L'articolo 26 è approvato. A maggioranza l'articolo 27.0.2, chi ha favore? Chi si astiene? Chi è contrario? L'articolo 28 è approvato. A maggioranza. Titolo 4.0.2, chi ha favore? Chi si astiene? Chi è contrario? L'articolo 29 è approvato. A maggioranza. Articolo 30.0.2, chi ha favore? Col voto contrario. A maggioranza. A maggioranza l'articolo 31.0.2, chi ha favore? Chi si astiene? Chi è contrario? L'articolo 31.0.2, chi ha favore? Chi si astiene? Chi è contrario? L'articolo 31.0.2, chi ha favore? Chi si astiene? Chi è contrario? L'articolo 31.0.2, chi ha favore? Chi si astiene? Chi è contrario? L'articolo 31.0.2, chi ha favore? Chi si astiene? Chi è contrario? L'articolo 31.0.2, chi ha favore? Chi si astiene? Chi è contrario? L'articolo 31.0.2, chi ha favore? Chi si astiene? Chi è contrario? L'articolo 31.0.2, chi ha favore? Chi si 2.1, a firma Muscarà Ciarambino. Prego, collega Muscarà. Allora, questo emendamento espunge un periodo della norma regionale che potrebbe generare una interpretazione ambigua e non conforme al Decreto di Legge 152.2006, Testo Unico Ambientale, il quale dispone l'obbligo per la VAS di tutti i piani che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, per cui si ritiene sufficiente l'applicazione della normativa vigente. La VAS sui piani che riguardano i rifiuti deve essere fatta sempre e comunque, anche se il piano fosse una ripetizione di quello regionale. Dovrebbe essere fatta quindi la verifica di assoggettabilità alla VAS per evitare e comprendere gli effetti significativi che possono avere sull'ambiente. Questa è stata presentata nell'ambito della Commissione, quando abbiamo avuto la Commissione rifiuti, come una semplificazione. Ma mi permetto di dire che semplificazione non è evitare una valutazione, ma magari renderla più veloce, ma non sottrarla. Ci potremmo trovare con degli impianti che sono poi rischiosi sui nostri territori. Buona votazione, l'emendamento è il 32.1. Chi è a favore? Chi si astiene? Chi è contrario? A maggioranza l'emendamento è il respinto. Il 32.2. Firma Muscarà. Prego, Consigliere Muscarà. Sempre riguardo questa norma, ed espunge questo emendamento, un periodo della norma regionale che consente di poter affidare la gestione degli ambiti sulla base del voto soltanto di piano d'ambito, in quanto ciò potrebbe creare situazioni di conflittualità qualora il piano venisse poi nel tempo modificato. Emendamento naturalmente senza costi. Chi è a favore dell'emendamento Muscarà? Chi si astiene? Chi è contrario? L'emendamento è il respinto. Metti in votazione l'articolo 32. Chi è favorevole? All'articolo 32. Chi si astiene? Chi è contrario? A maggioranza l'articolo 32 è approvato. Articolo 33.1. Firma Cerambino. Prego, Collega Cerambino. Grazie Presidente. Questo è l'emendamento a costo zero a cui facevo riferimento con riguardo ai saldi. A maggior ragione, vista l'enunciazione dell'assessore Marchiello, perché a me era stato detto che questo emendamento non poteva essere accolto perché l'assessore aveva bisogno di confrontarsi con le categorie produttive. evidentemente il confronto come a me risultava è già avvenuto, quindi non capisco perché la potestà dei salti non possa essere riportata sin da adesso nella autonomia della Regione e dobbiamo aspettare l'approvazione di un collegato che magari arriverà tardivamente e dovremo nuovamente ricorrere alla conferenza Stato-Regioni per anticipare la data di inizio dei saldi. Grazie. Allora, poniamo a votazione l'emendamento 33.1. Chi è a favore dell'emendamento 33.1? Chi è a favore, colleghi? Chi è contrario, chi si astiene, l'emendamento è respinto. Articolo 33. Chi è a favore all'articolo 33? Chi si astiene, chi è contrario, l'emendamento è approvato. Articolo 34.0.1. A firma di Picarone. Prego Picarone. Questo è l'emendamento di cui parlavo prima e che è quello di Massimiliano Manfredi e riguardava i contratti di programma. L'ho spiegato, è essenziale per evitare problemi sul dispiegarsi di questi contratti. Quindi è una proroga che si doveva fare nel 3.1.12. Allora, c'è l'emendamento 34.0.1. Chi è a favore, chi si astiene, chi è contrario, l'emendamento è approvato a maggioranza, con voto contrario del Centro d'Esta e dei Cinque Stelle. Articolo 35. Entrata in vigore. La presente legge pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore dal 1 gennaio del 2021. 1. Autorizzo gli uffici a fare le attività necessarie per sistemare, ai sensi dell'articolo 108, un attimo solo, comma 1, il regolamento interno del Presidente concede il coordinamento formale del testo approvato, non essendo obiezioni, così resta stabilito. La parola a Cascone, prego. Prima della conclusione della legge, solamente per evidenziare che gli emendamenti al punto 4 sul tema della viabilità che aveva presentato il collega Zannini, che sono stati chiesti di ritirare, perché entrambi gli interventi possono trovare copertura nel piano di finanziamento della manutenzione stradale da circa 600 milioni messi in campo dall'Aggiunta regionale. Benissimo. Allora, punto in votazione con il voto elettronico, l'intero provvedimento. Ah beh, per dichiarazione di voto a Zinzi e anche Grimaldi e anche la collega dei Cinque Riforza Italia. Prego, Zinzi. Grazie. Grazie, Presidente. Le premetto che recupererò il tempo che ho lasciato per il mio intervento precedente. Dunque, comincio col dire che il voto della Lega è chiaramente un voto contrario. La legge di stabilità non è per noi sufficiente, ma ci sono delle cose buone. Quelle che abbiamo votato, mi riferisco agli articoli sul trasporto e sulla sicurezza. Di buono c'è l'atteggiamento del Presidente della Commissione bilancio e dell'assessore al bilancio, che ringrazio perché hanno costruito i presupposti di un dialogo in un momento difficile in cui veniva chiesto a tutta l'Aula di provare a contribuire. E in effetti l'opposizione contribuisce. Avremmo potuto fare di più e meglio, senza dubbio. Però è un segnale importante e per questo io ringrazio della buona volontà. Se buona è la volontà, ottimo è l'atteggiamento dell'opposizione. Perché l'opposizione tutta, e non mi riferisco soltanto al mio gruppo, ma a tutto il centrodestra e anche ai colleghi del Movimento 5 Stelle, mi pare che l'opposizione in questo caso abbia dimostrato grande senso di responsabilità, di serietà per l'appunto e una volontà, la volontà a contribuire, esattamente quello che nel Consiglio scorso avevamo provato a rappresentare, cioè riportare il Consiglio alla sua naturale centralità. In questo caso ritengo che si siano gettate le basi. Poi faccio alcune considerazioni anche in ordine al dibattito sul DEF, perché per ragioni di sintesi era utile non intervenire due volte. Prima il mio collega Mocerino, che saluto e che ascolto sempre con attenzione, ha fatto riferimento all'importante emissione di liquidità in ordine al tema del Covid, in un periodo così difficile. Certo, ne abbiamo viste tante, potremmo dire, di tutti i colori, prima delle elezioni. Noi ci auguriamo che la medesima emissione, la medesima dimostrazione di buona volontà avvenga anche dopo. Sulla legge di stabilità, sul trasporto, dicevo, abbiamo votato l'articolo che lo rende gratuito per gli studenti, conferma un'intenzione, un provvedimento già buono. Chiaramente, mi viene da dire, con le scuole chiuse e con i ragazzi che non possono andare a mangiare una pizza, caro Presidente, andranno in giro in autobus gli studenti e i ragazzi per turismo e questo è un tema che noi ci dovremo porre. Politiche sociali, Presidente Picarone, noi avevamo presentato un emendamento molto importante, non tanto per la capacità di spesa ma per la volontà manifestata, ossia quella di un'integrazione all'assegno di cura per le persone affette da disturbo dello spettro autistico. L'emendamento è stato bocciato ma nel DEF c'è un richiamo importante e io mi auguro che a partire dall'approvazione della nuova legge la campagna si doti di strumenti omogenei tra tutte le province, perché non è accettabile che ogni provincia e quindi ogni ASL di riferimento si regoli in maniera differente e di forme. Il tema dell'urbanistica, il rilancio urbanistico nella nostra regione è una priorità di tutti, è chiaro che aspettiamo questa legge urbanistica ormai da troppo tempo, io ricordo in uno degli ultimi consigli, anzi in uno dei consigli dello scorso anno, forse proprio nel corso della scorsa legge di stabilità, la giunta affermò che la legge urbanistica sarebbe arrivata in aula nel giro di poche settimane o pochi mesi, alla fine noi siamo ancora costretti ad adoperare lo strumento della proroga e questo vale per i PUC, vale per il piano casa, noi avevamo proposto un emendamento per il piano casa Sinedie, avevamo proposto una modifica della norma relativa ai sottotetti, ma questi due emendamenti non sono passati e ci auguriamo che la legge urbanistica consenta un dibattito ampio, aperto e soprattutto che migliori quel bruttissimo testo che avevamo visionato durante la scorsa legislatura. Poi c'è un articolo sui consorsi di bonifica, è chiaro che la situazione va risolta, sono organismi essenziali ma purtroppo ad oggi sono gestiti come carrozzoni clientelari, allora Presidente le chiedo una cosa, noi dovremmo provvedere ad una valutazione della performance dei commissari di questi consorsi, perché ci sono commissari che sono stati nominati, penso al consorzio di bonifica del basso volturno che adesso è stato accorpato insieme a Laurunco, sono stati nominati con una chiara volontà di riorganizzazione, di riduzione della spesa, io chiederei alla giunta di effettuare una valutazione puntuale perché ritengo che quegli obiettivi non siano stati centrali, allora lì c'è da salvare caro assessore non soltanto l'attività dell'ottimo personale ma anche un'attività che è quella pregnante dei consorsi e allora le chiedo e chiedo alla giunta di intervenire su questo e di farlo nei tempi più brevi possibili. Poi prima si è parlato di ambiente, di ecoballe, allora dal momento che l'ottimo assessore Bonavitacolo ha fatto riferimento alla comparazione, la faccio anche io la comparazione, ebbè l'emergenza rifiuti nasce con un governo regionale che ha il vostro colore politico, apro una parentesi politica consentitemelo e quindi comparazione per comparazione oggi siamo ancora qui a dover risolvere i problemi e le emergenze generate dal governo Bassolino. E allora ricordarci che il predecessore ha fatto peggio di chi governa nell'attualità secondo me non è una cosa buona, io dico pensiamo a quello che bisogna fare oggi, io so solo che i 450 milioni di euro che il governo Renzi ha dato a questo governo regionale non sono stati spesi nei tempi che quel decreto prevedeva 2016-2019 e le ecoballe sono ancora per la maggior parte lì. E chiudo, prima il Presidente De Luca ha interpretato una mia smorfia e si è anche arrabbiato, ormai con me si arrabbia sempre e si arrabbierà anche in futuro presumo, perché io dico quello che penso Presidente. Il riferimento all'intervento del collega Borrelli che si batte per battaglie giuste e che nel campo della sanità ha fatto tante denunce, ebbene se non andiamo a considerare che la valutazione sul mancato commissariamento che noi non ci auguriamo e che non ci siamo mai augurati dell'ASL Napoli 1 non abbia a che fare con una valutazione politica contravvenendo anche all'orientamento del prefetto e contravvenendo anche all'orientamento della commissione d'accesso, allora vuol dire che noi non vogliamo vedere la realtà. E anche lì, quando si dice, ebbè, ma la gestione precedente, ma scusate, negli ultimi 21 anni la sanità in campagna per 16 è stata governata dal centro-sinistra e noi oggi stiamo qui a fare le pulci alla gestione dei 5 anni precedenti quando questo è un problema radicato nel tempo e allora su questo dobbiamo essere tutti intellettualmente onesti, se vogliamo realmente guardare al futuro e a proposito di futuro concludo il tema del Recovery Fund, è una grande opportunità per tutti noi, l'abbiamo capito leggendo e lo abbiamo capito anche nell'esercizio della nostra funzione politica, non solo amministrativa come diceva l'assessore Bonavitacola, perché noi qui rappresentiamo e abbiamo obblighi di rappresentanza anche in chiave e soprattutto politica, perché siamo dei legislatori e allora tutti noi vogliamo più risorse per il Sud, il gruppo della Lega, il centro-destra ha presentato un ordine del giorno che va in questa direzione, questa è una battaglia di tutti, siamo tutti meridionali e siamo tutti campani, quindi vogliamo le stesse cose, vogliamo più risorse per il Sud, più risorse per la Campania, io aggiungo, noi vogliamo però che le risorse che ci verranno destinate, mi auguro siano tante e ci batteremo tutti per questo, brillino per qualità della spesa e la Campania su questo negli anni, non punto il dito contro nessuno in particolare, non ha brillato per vigilanza sulla qualità della spesa e quindi questo deve essere uno dei nostri obiettivi, se non il principale, per cui confermo il nostro voto contrario alla legge di stabilità, ma mi auguro che il voto di questo giorno apra una fase nuova che rimetta al centro il Consiglio regionale dell'attività politica della Regione Campania. Grazie. Sì Presidente, grazie, giusto qualche considerazione perché poi nel merito entrerà come giusto la collega patriarca che è il capogruppo del gruppo a cui faccio riferimento. Io è inutile dire, non condivido né il merito né il merito di questo bilancio, nel merito entro poco perché non ho partecipato, non essendo componente della Commissione bilancio, però mi limito a sottolineare che non è cambiata né la musica né i musicanti in questi cinque anni. E faccio una differenza tra i musicanti e i musicisti, e i musicisti è un mestiere nobilissimo che rispetto, quello dei musicanti un po' meno. Il metodo oggi non è stato discusso un emendamento all'articolo 19 che non è stato proprio richiamato, che riguarda un problema oramai noto da anni e che è più volte riportato in questo Consiglio che è quello degli allevamenti bufalini, in particolar modo la questione che riguarda la provincia di Caserta. E mi dispiace Presidente, questo subemendamento è stato presentato da lei, che essendo una persona istituzionale, anche per il ruolo che svolge e che ricopre, io le riconosco una grande capacità istituzionale, però non vorrei che con questa grossa capacità istituzionale lei si dimentichi del ruolo politico del territorio, perché questo problema come sa lei, come conoscono i miei colleghi della provincia di Caserta e l'assessore Caputo che è un autorevole esponente non solo di questa giunta ma anche rappresentante di una provincia che è quella di Caserta, perché questo problema riguarda soprattutto la provincia di Caserta. Ho ascoltato con attenzione anche alcuni interventi e alcune manifestazioni dell'onorevole Caputo che su circa le proposte che emergono dal mondo degli allevatori bufalini, e sottolineo gli allevatori, cioè sono quelli che non trasformano, ma quelli che di fatto hanno le stalle e devono curare ogni giorno gli animali perché possono dare il latte che poi venga trasformato, quindi c'è una differenza. L'assessore non si dichiarava contrario per esempio al vaccino, che è una cosa che chiedono gli elevatori, ma diceva che questa questione deve essere affrontata nel merito in maniera approfondita, facendo riferimento anche al mondo scientifico. Ascoltiamo cosa dice il mondo scientifico. Io ritengo che il mondo scientifico deve essere quello degli omologi dei musicisti e non dei musicanti ai quali facevo riferimento prima, perché se sono i musicisti, quello del mondo scientifico, allora certo che lo ascoltiamo tutti con attenzione, se sono i musicanti no, è poiché ultimamente stanno parlando più i musicanti su questo argomento che i musicisti, io sono preoccupato. Ed è per questo che volevo discutere nel merito di questo emendamento e sottoporlo all'attenzione dell'Aula, perché questo è il Consiglio regionale della Campania. Il bilancio e la legge di stabilità non l'approva la Giunta, l'approva il Consiglio, l'approvano i 49 colleghi, i 50 colleghi che sono stati eletti dal popolo, dai loro concittadini, nell'ambito delle loro province di appartenenza. Certo, noi siamo consiglieri regionali di un'intera regione, ma ognuno di noi credo che possa dire con molta coscienza e con molta tranquillità di poter rappresentare al meglio una provincia, un territorio che conosce bene e che ogni giorno seguiamo. E io conosco bene quali sono le esigenze e le problematiche soprattutto di questo settore, poi forse di altri ne sono meno. E sapete bene, lo sa l'assessore Caputo, lo sa il Presidente Oliviero che è stato addirittura presentatore di questo emendamento che io ho ripreso, che poi probabilmente ha dovuto ritirare perché la Giunta che si ritiene essere sovrana, e faccio ancora qui riferimento al Consiglio che approvi il bilancio e non la Giunta, cari colleghi, ha ritenuto di stracciarlo. Non mi è stata data neanche la possibilità di poterlo discutere e quindi condanno anche il metodo, ma ci tengo che venga lasciata traccia oggi non solo sul merito, ma anche sul metodo sul quale noi condurremo questi lavori e saremo costretti, cari colleghi, a condurli per 5 anni in quest'Aula, almeno per 5. E se questo è il metodo, vi garantisco che ognuno di voi probabilmente quando tornerà a casa sui propri territori, dovrà darne conto al proprio elettorato e dovrà dire che probabilmente non è un uomo o una donna libera, se tutto viene deciso dalla Giunta in un palazzo che non è neanche la casa di vetro, ma è la casa di pochi e dovete dar conto a loro del perché molte problematiche che sono problematiche vere, che riguardano la pelle viva dei cittadini, non vengono neanche affrontati. Grazie. Presidente, io semplicemente nell'annunciare il voto contrario per le ragioni che abbiamo ampiamente espresso a questo provvedimento voglio però ribadire perché non essendoci il voto elettronico, in alcuni casi lei non ha specificato come le forze politiche hanno votato, questi sono temi per noi identitari, quindi ci tengo a ribadire che il Movimento 5 Stelle dall'articolo 29 all'articolo 32 ha votato contro, in particolare nuova proroga dei PUC, Piano Casa, nuova sanatoria e così via. Dopodiché mi lasci fare un'ultima notazione politica al collega Zinzi, mi fa piacere che esposi la battaglia per la legalità nella sanità campana, quando all'epoca fu richiesta dal Movimento 5 Stelle la commissione d'accesso all'Asnapoli 1 era Ministro degli Interni Salvini, io dovetti insieme ai miei colleghi parlamentari rivolgermi al Presidente del Consiglio Conte per l'inerzia dell'allora Ministro degli Interni, quindi mi auguro che la Lega in campagna, differentemente da come fatto al Governo nazionale, si batta per la legalità nei nostri presidi ospedalieri. Grazie. Borrelli vuoi parlare? Vedo il tuo micro. Prego Borrelli. Sì, volevo solo specificare due cose. La mia astensione, visto che come ha detto prima la collega Ciarambino su gli interventi per quanto riguarda Condoni e Piano Casa, e poi volevo specificare una cosa, sempre per onestà intellettuale, che è una cosa che mi piace tantissimo, è una parola stupenda. Volevo ricordare a tutti quanti noi, visto che qua l'onestà intellettuale ha uno spazio limitato nel tempo, che dal 1900, da quando c'era l'elezione diretta del Presidente della Regione, lo ricordo a me stesso e a chi di generazione e generazione è presente in quest'Aula, che c'è stato Rastrelli, forse l'hanno dimenticato che era un Presidente di Centroestà, persona che tra l'altro io stimavo, c'è stato due mandati di Bassolino, un mandato di Caldoro e un primo mandato di De Luca, quindi questi 200 anni del centro-sinistra e zero responsabilità del centro-destra, soprattutto da parte di chi nella provincia di Caserta ha fatto sempre il bello e soprattutto il brutto tempo, non mi sta bene. Tra l'altro, non so se all'epoca quando ci fu la Commissione d'Accesso, perché adesso non me lo ricordo in quale partito stava Zinzi, perché non lo riesco a seguire spesso nei salti da Tarzan che fa da un soggetto politico all'altro, mi sembra che soltanto negli ultimi 4 anni ha cambiato 5 partiti, però è bravo perché si fa accettare, io non sarei capace, sono altra cultura, sono politicamente monogamo, ma sono altre storie, c'è chi è disposto a passare dalla Lega a, come si chiama, Toti, di tutto e di più. Tu sei come no, non politicamente, politicamente sei, come dire, orgiastico. Allora, rispetto a questo, volevo ricordare al collega Zinzi, politicamente orgiastico, che forse nel correre da un partito all'altro per vedere come poteva essere rieletto, non ha seguito con attenzione la vicenda del San Giovanni Bosco e soprattutto io non ho detto che la responsabilità era stata del centro-destra, io sono assolutamente convinto che ci stanno responsabilità anche in quella che è la parte politica da cui provengo io, mica ho detto la colpa è stata di Caldoro o di Bassolino, ma dobbiamo dirci per onestà intellettuale che il San Giovanni Bosco è stato al centro di una battaglia politica, giudiziaria e amministrativa per meriti di chi è arrivato adesso e questo è un dato di fatto ed è necessario andare fino in fondo su questa vicenda per vedere dove sono nati, ci sono delle firme, chi erano i direttori dell'ospedale, chi erano i direttori della ASR, chi erano gli uomini politici di riferimento in quell'ospedale, a chi rispondevano, io sono per fare una, come dire, azione e anche chiedere alla magistratura e ai ministri di verificare affinché non si ripeta, affinché non si ripeta perché è stato un modello mostruoso anche di condivenze fortissime con la malavita. Per concludere quindi per la stessa onestà intellettuale, io sono favorevole a fare un'azione comune su questa vicenda e quando si tratta di battaglia per la legalità, da questo punto di vista per come la vedo io non ci sono parti politiche che tengano, destra, sinistra, centro, sopra o sotto, qualsiasi cosa pur di ottenere giustizia per i nostri cittadini. Questo lo dovevo per l'onestà intellettuale a tante invocata dal collega Zinzi. Bene, passiamo alla votazione con voto elettronico. Nonno, nonno, c'è il microfono abbassato, io non lo vedo. Prego, nonno. Sì, Presidente, sono giovane. Questo è il mio primo intervento in aula, in Consiglio regionale. Ho seguito pochissimo i lavori della Commissione bilancio da esterno in quanto impegnato nell'approvazione del bilancio del Consiglio Comunale di Napoli. Sono rimasto però basito dalla celerità con cui si eseguono le votazioni in quest'Aula. Io non riuscivo a capire, su questo devo dar ragione alla collega Ciarambri, non riuscivo a capire in ogni momento le votazioni come realmente i miei colleghi avessero votato, giusto per essere chiari e che resti traccia negli interventi della giornata. Presidente, vede, noi di Fratelli Italia daremo sempre vita a un'opposizione costruttiva, quell'opposizione che lavora negli interessi delle istituzioni, nell'interesse dell'Aula, nell'interesse dei cittadini. Non saremo certamente noi a fare opposizione distruttiva, ostruzionismo inutile, denunce che per la maggior parte servono a fare pubblicità, ma faremo però quello che i cittadini si aspettano, fatti concreti, proposte concrete, azioni concrete. E quindi in maniera concreta io non posso non vedere di buon auspicio l'intervento relativo ai finanziamenti per i trasporti per gli studenti, anche se ovviamente si poteva fare ancora qualcosina in più, ma non avendo avuto il tempo per mettere a punto degli emendamenti, ho votato a favore e voglio che resti traccia del mio voto favorito. Sono rimasto favorivolmente impressionato dalla proroga al piano casa, perché penso che sia un volano per l'economia. E soltanto chi è orbo e non se ne rende conto continua a far finta di non sapere che, dando uno sfogo anche economico a chi ha costruito nel pieno rispetto delle leggi, il piano casa costituisce un enorme valvole di sfogo anche economico e occupazionale. Io l'avrei stabilizzato una volta e per tutte. E non perché voglia tutelare questo o quell'altro potere economico o lobby, ma soltanto nell'interesse appunto dei cittadini e dei comuni. Però mi sarei aspettato ancora di più, un po' di coraggio, quel coraggio che certe volte le istituzioni sembrano avere. E sarò ancora più chiaro. Premesso che la ricostruzione storica delle varie giunte, dei vari colori che questa istituzione ha avuto è stata leggermente falsata, perché ricordo a me stesso che Rastrelli rimase in carica per due anni, quando un ribaltone notturno portò al governo della regione l'OSCO di nome e di fatto, e quindi il centrosinistra, aprendo le porte poi a Bastoline, a quella stagione nefasta, nefasta, nefasta per le istituzioni. Una stagione che ha approvato, ha fatto nasce le coballe, ha fatto nasce i quattro metri di rifiuti per le strade della nostra splendida regione, ha portato alle rivolte di pianura e in questa legge di bilancio mi sarei aspettato anche qualcosa per la bonifica di quella discarica, perché ricordo a me stesso che sono quattro discariche, di cui una sola legale, tre erano abusive e quindi là ci volevo un po' di coraggio. Anche di quella onestà intellettuale che qualcuno in quest'Aula ha più volte ricordato, quell'onestà intellettuale che fa dimenticare che in determinati momenti storici di questa regione qualche giustizialista di turno ricopriva qualche incarico di potere, lo ricordo a me stesso, non ad altri. Però ovviamente siamo qui per fare la nostra dichiarazione di voto, noi di Fratelli d'Italia in maniera coerente voteremo contro questo bilancio, ma siamo sempre convinti che l'interesse primario è quello dei cittadini. Io mi sarei aspettato un altro po' di coraggio, il coraggio che purtroppo è mancato, perché ancora oggi i cittadini campani non possono soffrire di una legge nazionale, che cioè quella relativa all'ultimo condono approvato dal Governo nazionale, quella legge che vide protagonista la regione campagna, opponendosi fino anche in Consiglio di Stato, facendo di fatto vivere centinaia e centinaia di cittadini della regione campagna nell'illegalità, in maniera disuguale rispetto a quelli di tutto il resto d'Italia. Qua non stiamo parlando di voler fare altri condoni o di voler condonare abusi edilizi di questo e di quell'altro imprenditore, stiamo soltanto dicendo che c'è una disparità di trattamento nelle leggi, nell'attuazione delle leggi dello Stato italiano in questa regione dovuta alla gestione amministrativa della giunta Bassolino, che di fatto fa piombare nella illegalità, perché qua si parla sempre di legalità, ma ci dimentichiamo che i cittadini campani oggi vivono, una parte dei cittadini campani continuano a vivere nell'illegalità perché ci fu quell'atto amministrativo di quella maggioranza. E allora, se dobbiamo essere concreti, noi lo saremo, daremo la massima disponibilità alle istituzioni, daremo la massima collaborazione a questa giunta, ma nel rispetto dei ruoli a cui i cittadini della regione Campania ci hanno relegato. Volteremo contro questa legge di bilancio, ma lo faremo in maniera costruttiva come abbiamo già dimostrato di averlo fatto oggi. Per questo motivo il mio voto sarà contrario, ma questo non toglie appunto che assicureremo sempre la nostra leale collaborazione. Grazie. Patriarca. Presidente, mi scuserà l'incertezza dei toni, ma sa come sono reduce dal patto della parmigiana, sperando che abbia sorte migliore rispetto al patto del Nazareno. Mi consente la battuta perché ultimamente anche la stampa, forse perché il clima natalizio preferisce buttare e analisi di costume piuttosto che valutare quali sono le reali problematiche del Paese e su quelle eventualmente interrogarsi e o interrogarci. Tant'è, non scegliamo noi i tempi in cui vivere, ma tocca a noi assumere la responsabilità delle decisioni in questo periodo storico, responsabilità delle decisioni che ci coinvolgono a prescindere dal ruolo di maggioranza e opposizione, perché quando si parla dell'interesse della collettività non c'è posizione preconcetta che possa valere. Detto questo, è doveroso per me in questo momento anche chiarire che cosa significa collaborazione istituzionale e senso di responsabilità. In un momento così difficile, peraltro, non significa inciuci sotto banco né mercanteggiamento, significa parole chiare nei contesti istituzionali, proposte chiare nella direzione di risolvere i problemi delle persone, al letto delle differenti posizioni politiche di partenza per le quali siamo stati eletti e ci posizionammo all'interno di questa stessa regionale. Per questa ragione, per questo senso di responsabilità e di collaborazione intesa in questo modo, non abbiamo inteso ascoltare le locazioni istruzionistiche che potevano richiedere un tipo di atteggiamento diverso in quest'Aula. Abbiamo voluto fare una posizione responsabile pensando e proponendo pieni di interesse generale, facendo emendamenti che andassero a tutelare in questo momento storico le fasce che sono percolpite dalla crisi economica derivante dalla crisi dell'emergenza pandemica. I nostri emendamenti purtroppo non hanno trovato una corrispondenza nella volontà di questa maggioranza, forse anche perché, e quando mi fermo sull'analisi della fase precedente all'approvazione del bilancio, la fetta non è stata una consigliera positiva per nessuno di noi, non abbiamo avuto il tempo né di dialogare né di analizzare le rispettive posizioni, perché anche da scelte differenti, da posizioni differenti, potevano nascere soluzioni convergenti se ci fossimo confrontati e si avessero avuto il tempo di analizzare effettivamente quali erano le proposte dell'opposizione, anche rispetto ad alcune scelte della maggioranza che in parte lo assorbeno e lo assumono. Che questa scelta abbia prodotto dei disagi l'abbiamo visto anche dai lavori in questa assise in questi momenti. Come ha evidenziato anche il collegamento, a volte non ci siamo neanche resi conto cosa stavamo votando e siamo dovuti venire a chiarire e specificare che su alcuni punti eravamo in accordo con alcune decisioni della maggioranza. Come è successo l'inconveniente del fatto che non sia stato richiamato l'emendamento presentato dal collega Grimaldi? Guarda, tu non ascoltavi e eri distratta. Era un sub-emendamento, ad un emendamento respinto che io ho richiamato, dato che il collega Grimaldi era assente e l'ho chiamato assente e per questo è decaduto. Potete guardare le registrazioni, dopodiché sarete più contenti. Questo disguido dispiace proprio a me, ma il collega Grimaldi dovrebbe stare in aula. Presidente, lo superiamo cercando anche di capire qual è la posizione della maggioranza sul tema che riguarda una parte importante dell'economia di questa regione. Quindi è interesse non solo approvare un emendamento, ma quanto più porre un problema e cercare, mi rivolgo anche all'assessore dell'agricoltura, che da quell'area geografica proviene, cercare di affrontare questa problematica in termini concreti e trovare anche qui delle scelte che diano delle risposte a una parte importante del nostro territorio. Detto questo, torno all'analisi del bilancio. La fretta non ci ha permesso di poter incidere in alcuni che potevano essere degli argomenti che potevano riguardare entrambi le parti, detto pur supposizioni di partenza diverse. Presidente, è un bilancio che pur avendo alcuni spunti positivi e l'avvoto favorevole su alcuni punti da parte di questa opposizione ve l'ha dimostrato, è un bilancio che definisco con tristezza tiepido, perché ci saremmo aspettati da parte sua, soprattutto ascoltando le sue parole in questo periodo, qualche scelta di coraggio in più. Si poteva eventualmente operare qualche taglio da qualche parte e cercare di dare delle risposte concrete alle esigenze economiche, risposte anche integrative rispetto alle misure intraprese dal Governo per quelle categorie che in questo periodo economicamente sono quelle più danneggiate. Non è detto che non si possa fare qualcosa nel corso di questa consigliatura. Noi siamo a disposizione, ancora una volta, nell'interesse dei cittadini. Siamo a disposizione, e l'abbiamo dimostrato con l'atteggiamento in quest'Aula e l'atteggiamento nelle commissioni, anche per la tematica forse più importante di questo periodo, perché da quello che succederà sull'utilizzo dei fondi del Recovery Fund dipende molto dello sviluppo di questa Regione. Ora, Presidente, la nostra collaborazione non vuole essere una collaborazione statica. Io lo ribadisco e insisto su questo punto, perché se è vero che le risorse del Recovery Fund sono state date in questa dimensione all'Italia, proprio in ragione della situazione del Sud, non è detto che il Governo possa tenere presente i criteri europei, ma possa applicare i criteri nazionali. E questa cosa si convertirebbe in uno svantaggio per le regioni del Sud. Allora, sediamoci, valuti anche la possibilità di ascoltare le nostre proposte, di trovare degli argomenti tali da poterci far sentire con credibilità da questo Governo. Siamo a disposizione per questa battaglia, che è la sua ma che è anche la nostra, e soprattutto la nostra di tutti i cittadini campani, che credono che questa Regione abbia diritto a superare un divario storico che ci portiamo dietro da troppo tempo. Abbiamo le capacità e le potenzialità in questo territorio per far sì che la Regione Campania sia leader in molti settori. Tocca a noi, in questo momento soprattutto, mettere da parte le posizioni personali, mettere da parte le appartenenze e fare una battaglia comune, che significa anche, Presidente, ascolto e condivisione. La parola ad Abbate. Grazie. Signor Presidente, signor Presidente De Luca, ho ascoltato con attenzione il dibattito e devo dire che rispetto a un bilancio contratto, così come compresso, così come ha definito l'assessore 5, io trovo tante note positive, note delle tracce per un futuro migliore per la Regione Campania. E dico, in attesa del recovery fund, noi dobbiamo però iniziare a ragionare su come vogliamo utilizzare e come vogliamo immaginare lo sviluppo della Regione Campania. Perché se sono i stessi meccanismi che ci hanno portato in queste condizioni, io credo che noi non riusciremo a dare in prima alla Regione Campania la giusta vitalità sia economica che sociale, va bene, che merita. Le prime tracce importanti sono il piano casa, va bene, quindi i condoni rispetto al piano casa. Perché è importante? Perché ci permette di accedere a quel piano nazionale, va bene, che vede l'efficinamento energetico degli edifici, iniziando dalle case popolari, che è la cosa che ci interessa molto, e significa quindi una riconversione dell'attività produttiva, va bene, significa rimettere in moto un'economia edilizia che è stata moltificata e è stata messa da parte in questi ultimi anni. Significa anche però dare meno PM10 nell'ambiente, significa quindi un ambiente più pulito, quindi come vedete un efficientemente energetico, si riflette sull'ambiente e quindi si riflette sulla qualità della vita. Parlare di casa e quindi parlare di ambiente significa, col nuovo Recovery Fund, io penso che una nota importante dovrebbe essere il dissesto ideologico. Non se ne è parlato molto, oggi i consiglieri di maggioranza hanno parlato del fiume Sarno, delle difficoltà che ogni volta quella regione è costretta a subire per una violenza che il territorio ha subito. Quindi un vero piano di investimento ideologico e quindi con un nuovo ruolo che potrebbe avere e la protezione civile, soprattutto la forestale, diventa importante. Sono un modo un modo per parlare di futuro, ma parlare di futuro significa anche parlare di infrastrutture materiali, si parla di turismo anche delle aree interne, ma non mi potete dire come è possibile parlare di futuro delle aree interne se in Benamento Napoli ci vogliono un'ora e mezza, sia per quanto riguarda l'asse viare che quello ferroviare. Significa parlare di infrastrutture immateriale, molte zone all'interno della regione Campania sono completamente sprovviste del wifi, sono completamente sprovviste di un metodo che ci permette di guardare il mondo stando dietro la scrivania di casa nostra. Allora parlare di recovery fund significa avere una visione completamente differente. Significa anche parlare di scuola con il nuovo recovery fund, con tutti questi nuovi fondi che dovrebbero arrivare. Ristrutturare la scuola partendo dagli edifici scolastici, rivedere all'interno degli edifici scolastici le famose palestre, io mi ricordo ai miei tempi che esistono i giochi della gioventù, la possibilità di socializzare all'interno delle scuole, tutto questo adesso è stato completamente depennato, esiste solo il calcio che viene esercitato dalle scuole calcio, ma l'attività fisica all'interno delle scuole è completamente assente. Questo periodo di ricovero calcio poi ha messo anche in evidenza la netta differenza che esiste tra alcune zone della regione rispetto alle altre zone, dove praticamente la mancanza di wifi ha permesso, ha fatto sì, che non tutti hanno subito la stessa educazione scolastica, hanno potuto adeguarsi a questo tipo di problematica. molta gente, molti ragazzi sono stati isolati perché non potevano assolutamente accedere a queste lezioni da remote, non è neanche importante avere l'iPad, regalare l'iPad, mancava la linea wifi, quindi probabilmente a breve dovremmo iniziare a ipotizzare anche questo tipo di intervento, ma parlare del nuovo futuro significa parlare anche di sanità, di sanità che sta attraversando un periodo difficile, però un piccolo nemico ha fatto sì e ha chiarito che una sanità così come è stata concepita, con la modifica del titolo quinto e via dicendo, una sanità che è sicuramente fallimentare, rispetto, io parlo sul piano generale Presidente, una sanità che ha visto crollare le nostre certezze, che ha visto crollare il concetto di malattia che è stata mercificata, l'aspetto mercologico ha prevalso sulla cura del cittadino, allora ipotizzare anche una sanità che guarda più il territorio, quindi un nuovo piano ospedaliero, va bene, con le dovute attrezzature, ma anche una nuova sanità territoriale, i medici di famiglia hanno subito più di 100 perdite in questo periodo, la colpa è dell'ambiente che abbiamo vissuto e che abbiamo creato, probabilmente nei prossimi giorni e nei prossimi mesi dovremo preoccuparci di vedere, di ristrutturare la sanità non come è stata vista in precedenza, Presidente, andando a guardare l'induito con le sue difficoltà, quando il collega mi parla della situazione di quel poveretto che è stato gambizzato e quindi il Cardarelli gli ha dato la dovuta assistenza, questa non dovrebbe essere un'eccezione, ma la normalità che dovrebbe colpire, dovrebbe stare in tutti gli ambienti e in tutti gli ospedali e allora non diventa un'eccezione, ma significa che una buona sanità dà tutto consenso e assicuriamo a noi e ai nostri figli un ambiente che potranno vivere e che potranno investire. Io avrei altre cose da parlare guardando al futuro, quindi una lettera e un auspicio al Presidente che ci coinvolga in questa operazione del futuro, che deve seguire linee completamente differenti rispetto a quelle che abbiamo seguito adesso, linee che guardano il benessere delle persone e non soltanto di alcune persone. Io questo ho visto in questo bilancio, ho intravisto rispetto alle tracce che sono state scritte, perché era praticamente il minimo che potevamo fare e potevamo indicare che cosa avremmo dovuto fare nel prossimo futuro. Per cui io e il gruppo Lune Campani, che facciamo parte di un altro gruppo più grosso, voteremo favore di questo bilancio. Grazie. Presidente, non avevo intenzione di intervenire, però mi rendo conto che molte volte in modo sintetico voglio dire alcune cose. Uno, che molto spesso me lo insegnavo il mio vecchio maestro, che non è obbligatorio prendere la parola nei consessi pubblici solo per mettersi in mostra, che molte volte è obbligatorio ed essenziale per chi amministra e per chi è rappresentante del popolo dimostrare quanto fa per i propri territori e per la propria gente attraverso il suo compartimento e la sua azione. Questo è quello che vale. Quindi io non sto qui a rivendicare quelle che fanno i nostri governanti, quelle che fanno i nostri riferimenti. Sto qui a dire che attraverso la nostra azione, attraverso la nostra operatività, attraverso il modus operandi, noi possiamo dimostrare quanto vogliamo e quanto sappiamo fare per i nostri territori. Il Presidente di Lucala nostra sicuramente, come ha potuto vedere, è un'azione politica di collaborazione e sarà di collaborazione se la maggioranza vuole la collaborazione. Infatti ci siamo confrontati con il Presidente della Commissione Bilancio dal quale alcune cose sono state recepite. Però molte cose, purtroppo anche per mancanza di tempo, come diceva appunto prima l'assessore 5, forse non ha dato quel giusto spazio di confronto. Però dico che molte volte quando si vuole portare avanti o quando si porta diciamo a completamente una legge di bilancio è giusto ed è corretto prendere i migliori suggerimenti perché questo serve a chi amministra questa Regione Campania e lei legittimamente con il voto popolare è stato designato all'amministrazione di questa Regione Campania e noi vogliamo fare della nostra parte. Noi la vogliamo fare consapevoli che la possiamo fare solo se la maggioranza ce la consentirà, altrimenti se si va al voto sicuramente le opposizioni soccombono sempre. Invece noi vogliamo dare con la massima onestà intellettuale tutto il nostro contributo affinché in un momento particolare come questo, in un momento pandemico, in un momento dove veramente la Campania sta soffrendo a seguito della pandemia sanitaria, anche una pandemia economica che purtroppo era sotto, diciamo, risapute e tutti quanti ce l'aspettiamo. Facciamo tutti la nostra parte, vogliamo fare tutti la nostra parte affinché possiamo dare in senso concreto e in modo concreto le giuste risposte alle nostre collettività. Grazie. Siamo alla votazione del provvedimento composto da 35 articoli e da un allegato. Si passa la votazione elettronica. Prego, colleghi, di prendere posto e di votare. È aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Presenti 39, votanti 39. Ebbè, aggiungiamo ai voti, non si preoccupa. Allora, presenti 39, votanti 39, favorevoli 29, 10 contrari. Poi si aggiungono alla votazione perché il sistema non funziona. I colleghi Petrac, Raia, Paola Raia. Quindi che votano in modo favorevole. Piscitelli, favorevole pure il collega Iovino. Quindi ai 39 si aggiungono 3 voti. Siamo a 42. Vogliamo rivotare, però se prendete posto, perché evidentemente... Riapriamo la votazione. La regia, per favore. Siamo pronti. Possiamo votare? Prego, è aperta la votazione. Votiamo. Abbiamo votato tutti? Chiusa la votazione. Presenti 45, votanti 45, favorevoli 33, contrari 12, astenuti 0. Il provvedimento è approvato, che è composto da 35 articoli e da 1 allegato. Passiamo al punto 5. All'ordine del giorno, esame del disegno di legge e bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2021-2023 della Regione Campania, ribri giunta regionale numero 565 del 10 dicembre 2020. Registro generale numero 20. Comunica che la seconda commissione consigliare, riunitese nella seduta del 21 dicembre ultimo scorso, ha esaminato i provvedimenti a maggioranza, ha deciso di riferire favorevolmente all'Aula. Comunica che il provvedimento è munito dalla relazione del Collegio dei Soli dei Conti, resi in data 22 dicembre 2020. Il relatore nato è stato designato il presidente della commissione, Francesco Picarone, cui concedo la parola. Prego, Picarone. Debiti fuori bilancio? Il bilancio, vabbè, insomma, sono tutti i documenti depositati agli atti, li diamo per letto, insomma, perché se no non ce ne usciamo. Ho già detto, ponga la votazione l'articolo 1. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Col voto, scusami Cerambino, col voto contrario dei 5 Stelle e del centrodestra l'articolo 1 è approvato. Articolo 2. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Con la stessa votazione. L'articolo 2 è approvato. L'articolo 3. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? Con la stessa votazione. L'articolo 3 è approvato. Articolo 4. Chi è a favore? Chi si astiene? Chi è contrario? Con la stessa votazione. L'articolo 4 è approvato. Votiamo l'allegato allo strumento di bilancio. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? Con la stessa votazione. L'articolo 4 è approvato. Adesso passiamo alla votazione elettronica. E' aperta la votazione. Prego, sedetevi. Avete votato tutti? Chiusa la votazione. Scusami, Cianambino, tu sei seduta, ha aperto la votazione e sei distratta. è la colpa. No, ripetiamo la votazione, tanto ci mettiamo meno. Ripetiamo la votazione, per favore. Aperta la votazione. Aperta la votazione. Prego, abbiamo votato tutti? Chiusa la votazione. presenti 43, votanti 43, favorevoli 31, 12 contrarie, astenuti nessuno. Il provvedimento è approvato. Passiamo al punto 6, relativa all'esame del disegno di legge, riconoscimento di debiti fuori bilancio, all'essenza dell'articolo 73,1, lettera A del decreto legislativo 23 giugno 2011, numero 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, numero 126 e dal decreto legge 30 aprile numero 2019, numero 34, convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, numero 158. Delibre di giunta regionale del 12 novembre 2020, numero 490, importo complessivo di euro 1.342.511, 111,28, registro generale numero 4, comunica che la seconda commissione consigliare permanente riuniti nella seduta del 9 dicembre ha esaminato i provvedimenti a maggioranza con il voto contrario del Movimento 5 Stelle, l'astenzione del gruppo misto ha espresso parerre favorevole all'approvazione del testo. Relatori in aula e Picarone. Prego, Picarone. Li diamo per letta, li diamo per letta, li diamo per letta e li votiamo. Va bene. Allora, articolo 1, chi è a favore? Alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi, col voto favorevole della maggioranza, il voto contrario di 5 Stelle e del centro-destra, l'articolo 1 è approvato. Articolo 2, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Con la stessa votazione, l'articolo 2 è approvato. Articolo 3, entrata in vigore. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Con la stessa votazione, l'articolo 3 è approvato. C'è l'allegato che sottoponga votazione. Chi è a favore? Chi si astiene? Chi è contrario? Con la stessa votazione, è approvato l'allegato. Passiamo alla votazione elettronica. È aperta la votazione, prego i colleghi di rimanere seduti, che stiamo seduti, finiamo prima. Prego, non hai votato. Se voti, così chiudo la votazione. I colleghi sono pregati di rimanere in aula. Solo girandiamo più tardi. Ecco. Chiusa la votazione. Presenti 44, votanti 44, 30 favorevoli, contrari 12, 2 astenuti. Il provvedimento è approvato. Punto 7 all'ordine del giorno. Registro generale numero 5, debiti fuori bilancio. Comunico che la seconda commissione consigliare permanente, riunitissima la seduta del 9 dicembre scorso, ha esaminato i provvedimenti a maggioranza con il voto contrario dei 5 stelle e la stazione del gruppo misto, ha espresso parere favorevole all'approvazione del testo. Relatori in aula e Picarone, che desiste da relazionare. E passiamo direttamente alla votazione di quanto previsto. Articolo 1, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, con il voto favorevole della maggioranza, il voto contrario di 5 stelle e del centro-destra, l'articolo 1 è approvato. Articolo 2, chi è a favore, chi si astiene, chi è contrario, con la stessa votazione, l'articolo 2 è approvato. Articolo 3, chi è favorevole, chi si astiene, chi è contrario, l'articolo 3 è approvato con la stessa votazione. Approviamo l'allegato alla delibera. Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, l'allegato è approvato a maggioranza con il voto contrario di 5 stelle e del centro-destra. Passiamo adesso alla votazione elettronica. Prego i colleghi di venire in aula, che stiamo votando. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Presenti 41, votanti 41, favorevoli 31, contrari 8, 2 astenuti. Il prevedimento è approvato. Riconoscimento di debiti fuori bilancio, registro generale numero 6, comunica che la seconda commissione consigliare, permanente, riunitesi, riunitesi nella seduta del 9 dicembre ultimo scorso, i sanitari, i prevedimenti, la maggioranza del voto contrario di 5 stelle, la stenzione del gruppo ministro espresso, parere favorevole all'appuazione del testo. Passo al testo. Articolo 1, chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? Con il voto della maggioranza a favore, del contrario della minoranza, 5 stelle, centro-destra, l'articolo 1 è approvato. Articolo 2, chi è a favore? Lo stesso sistema di votazione. L'articolo 2 è approvato. Articolo 3, con la stessa votazione, l'articolo 3 è approvato. Passiamo all'approvazione dell'allegato. Chi è a favore? Chi è contrario? Con la stessa votazione, l'allegato è approvato. Passiamo adesso alla votazione elettronica sul provvedimento. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Presenti 42, votanti 42, favorevoli 29, contrari 11, astenuti 2, il provvedimento è approvato. Debiti fuori bilancio. Registro generale numero 7, comunico che la seconda commissione consigliare, lo ha approvato nella seduta il 9 dicembre scorso, e il provvedimento è stato approvato a maggioranza, lo voto contrario, 5 stelle, l'assenzione del gruppo misto. Passiamo alla lettura del testo. Articolo 1, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astime? A maggioranza, l'articolo 1 è approvato, con il voto contrario, i 5 stelle del centro-destra. Articolo 2, con la stessa votazione. Articolo 3, con la stessa votazione. Passiamo alla votazione dell'allegato. Stessa votazione all'allegato. Passiamo adesso al voto elettronico. Prego i colleghi di prendere posto, di non allontanarsi. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Presenti 43, votanti 43, favorevoli 30, contrari 11, astenuti 2, provvedimento è approvato. Debiti fuori bilancio. Registro generale numero 8, comunica alla seconda commissione permanente. Il 9 dicembre, l'ultimo scorso, ha esaminato il provvedimento e l'ha approvato a maggioranza, lo voto contrario, i 5 stelle del gruppo misto. Passiamo alla votazione del provvedimento. Articolo 1, chi è a favore, chi è contrario, chi si astime, a maggioranza, è approvato l'articolo 1. Articolo 2, stessa votazione. Articolo 3, stessa votazione. Votiamo l'allegato. Stessa votazione. Passiamo al voto elettronico, sul provvedimento. È aperta la votazione. E così sta. In verbale me la danno. Il verbale è questo. Io leggo il verbale che mi danno. E c'è nel verbale, guardate. Io sto leggendo lo spicci che mi fanno dall'ufficio. Allora. Eccolo. Io lo sto leggendo. Benissimo, poco male. Non preoccupate, qui avete votato a favore. Vi voto in Aula. Va bene. Registro generale numero 9, del 9 dicembre scorso. Passiamo alla votazione del provvedimento. Articolo 1. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Col voto favorevole della maggioranza e il voto contrario dell'opposizione. Articolo 1 è approvato. Articolo 2. Stessa votazione. Articolo 3. Stessa votazione. Allegato. Stessa votazione. Passiamo al voto elettronico, sul provvedimento. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Presenti 44, votanti 44, favorevoli 32, contrari 11, astenuti 1, il provvedimento è approvato. Registro generale numero 10. Passiamo al provvedimento. Articolo 1. Chi è a favore? Chi si astiene? Chi è contrario? Col voto favorevole della maggioranza. Il voto contrario dell'opposizione. L'articolo 1 è approvato. Articolo 2. Stessa votazione. Articolo 3. Stessa votazione. Allegato. Stessa votazione. Passiamo alla votazione sul provvedimento. Aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Presenti 43, votanti 43, favorevoli 33, contrari 9, astenuti 1, il provvedimento è approvato. Registro generale numero 12. La Commissione il 9 dicembre ultimo scorso ha approvato il provvedimento e l'ha relazionato farolmente all'Aula. Passiamo alla votazione del provvedimento. Articolo 1. Chi è a favore? La maggioranza è a favore. L'opposizione è contraria. L'articolo 1 è approvato. L'articolo 2 è stessa votazione. L'articolo 3 è stessa votazione. La tabella allocata è stessa votazione. Passiamo al voto sul provvedimento. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Presenti 44, votanti 44, favorevoli 33, contrari 10, astenuti 1, il provvedimento è approvato. Registro generale numero 13. La Commissione la seduta del 9 dicembre ultimo scorso ha approvato a maggioranza il provvedimento. Passiamo alla votazione sul provvedimento. Articolo 1. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? La maggioranza, lo voto favorevole della maggioranza. E' contrario dell'opposizione. L'articolo 1 è approvato. Articolo 2, stessa votazione. Articolo 3, stessa votazione. L'allegato, stessa votazione. Passiamo al voto elettronico sul provvedimento. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Presenti 41, votanti 41, favorevoli 29, contrari 10, astenuti 2, il provvedimento è approvato. Registro generale numero 14. La seconda commissione consigliare si è riunita nella seduta del 9 dicembre ultimo scorso e ha approvato a maggioranza il provvedimento in questione. Passiamo alla votazione del provvedimento. Articolo 1, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, col voto favorevole della maggioranza. Il voto contrario delle opposizioni, l'articolo 1 è approvato. Articolo 2, stessa votazione. Articolo 3, stessa votazione. Sull'allegato, stessa votazione. Passiamo al voto elettronico per appello nominale. Invito il consigliere giornale a rimanere in aula. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Presenti 41, votanti 41, favorevoli 32, contrari 9, astenuti nessuno, il provvedimento è approvato. Registro generale numero 15, la seconda commissione permanente nella seduta del 9 dicembre ultimo scorso ha eseminato il provvedimento e a maggioranza ha riferito favorevolmente all'aula. Articolo 1, chi è a favore, chi è contrario, chi si astime, col voto favorevole della maggioranza e il voto contrario delle opposizioni, l'articolo 1 è approvato. Con la stessa votazione, l'articolo 2 è approvata. Con la stessa votazione, l'articolo 3 è approvata. E con la stessa votazione, è approvata anche l'allegato schema. Passiamo alla votazione per appello nominale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Allora, presenti 42, votanti 42, favorevoli 32, contrari 10, astenuti nessuno, il provvedimento è approvato. Registro generale numero 16, la seconda commissione consigliare, riunitisi il 9 dicembre dell'ultimo scorso, ha riferito positivamente all'Avo, la maggioranza, il presente provvedimento. Passiamo al provvedimento. Articolo 1, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, col voto favorevole della maggioranza, è contrario delle opposizioni, l'articolo 1 è approvato. Stessa votazione per l'articolo 2, stessa votazione per l'articolo 3, e per l'allegato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Presenti 39, votanti 39, favorevoli 30, contrari 8, astenuti 1, il provvedimento è approvato. I debiti sono finiti, ci sono gli obiettivi. Presidente, allora io ho cercato di raccogliere un poco le indicazioni delle forze politiche che hanno provveduto a stilare troppo tre ordini del giorno in questa materia. Per la verità, tutti concludono nello stesso modo, ma ognuno nella premessa, nei considerata, hanno attività diverse. Io riterrei di votarle per parti separate, in modo che alla fine il provvedimento unitario, che è quello finale, viene votato all'unanimità. Ognuno si distingue per la posizione politica che vuole esprimere, però alla fine l'intero Consiglio regionale è d'accordo sulla finalità. Volete i tre? Le conclusioni? Leggiamo solo le conclusioni. il dispositivo. Allora passo a leggere il dispositivo. Vuole intervenire Caldoro? Prego Caldoro. Perché non ritiriamo le premesse? Facciamo prima. Votiamo un unico voto con il dispositivo finale. Benissimo. Questa è la cosa che diceva il Presidente De Luca. Benissimo. Tu votiamo le dispositive e siamo a posto. Allora, noi ritiriamo le nostre premesse e ognuno di voi deve ritirare le proprie. Benissimo. Devo dire di dichiarare, non lo può dir lui. Va bene. Prego, la Cianambina. Grazie, Presidente. Credo che questo sia un momento che richiede un minimo di intervento perché riteniamo che sia un momento importante per questa Sise e per la nostra regione. insieme a tutto il mio gruppo da tempo noi portiamo avanti questa battaglia per un'equa ripartizione dei fondi da destinare al Sud tant'è che abbiamo inteso depositare un atto che certamente muovesse dall'attualità ovvero la necessità di garantire un riparto del Recovery Fund che fosse commisurato ai principi definiti dall'Europa per stabilire il quantum da attribuire all'Italia. Se i principi definiti dall'Europa includono anche il tasso di disoccupazione degli ultimi cinque anni oltre al decremento del PIL non si capisce perché a fronte dei 209 miliardi ricevuti dall'Italia sulla base di questi principi poi nel riparto interno si debba unicamente utilizzare il criterio della popolazione residente. Nel merito di questa vicenda quando ancora diciamo si parlava in termini teorici del Recovery Fund noi scrivemmo io scrissi una lettera al Presidente Conte chiedendo proprio in virtù delle sue declaratorie da sempre enunciate la massima attenzione per le esigenze del Sud Italia e della nostra regione. Come appunto dicevo e illustravo ai miei colleghi noi abbiamo voluto ampliare la portata del provvedimento che sottoponiamo oggi a quest'Aula e che appunto è contenuto anche nel dispositivo condiviso da tutti quindi anche noi ritiriamo le premesse perché riteniamo che per una volta dobbiamo imparare come rappresentanti della campagna a fare squadra per gli interessi della nostra regione superando le differenze io non voglio che questo sia il provvedimento di qualcuno perché lo sventoli e lo sbandieri per cerebrare se stesso questo è il provvedimento dei cittadini della campagna a difesa degli interessi dei cittadini della campagna che noi rappresentiamo complessivamente in questa stise e complessivamente quindi portiamo avanti questo provvedimento mi auguro presidente e di questo voglio interessare anche il nostro ufficio di presidenza che questa battaglia per l'eco riparto dei fondi al sud Italia arrivi in tutte le sedi istituzionali il presidente De Luca l'ha portata all'attenzione dei presidenti delle regioni meridionali noi abbiamo il dovere di portarla all'attenzione dei presidenti dei consigli regionali meridionali auspicando che i consiglieri regionali delle regioni interessate possano seguire questa scia e parimenti i rappresentanti che siedono in Parlamento delle nostre regioni come dicevo la portata del provvedimento va ampliata perché non basta più fare annunci ora è tempo di ingaggiare veramente un'iniziativa forte per superare i criteri di riparto della spesa storica non è possibile che nei comuni dove noi abbiamo zero asili nido si continui a ricevere zero o poco più per dei correttivi parziali come non è possibile che in una regione dove le patologie oncologiche infantili pediatriche sono tra le diciamo hanno i tassi di incidenza tra i più alti d'Italia noi continuiamo a ricevere un riparto del fondo sanitario nazionale commisurato alla popolazione pesata per età certamente ci sono le patologie croniche che sono legate all'età anziana ma dobbiamo finalmente fare in modo che i fondi che arrivino nelle nostre regioni siano commisurati ai fabbisogni reali questo per dire la battaglia che va fatta sul riparto dei fondi che mi auguro ci troverà tutti quanti uniti lo ripeto e spero che la bandiera la portiamo insieme che non ci sia nessuno che intenda a strumentalizzare questa azione per farne diciamo un proprio vanto politico il vanto politico è condiviso perché stiamo lottando per gli interessi della nostra regione voglio aggiungere un'altra cosa che abbiamo voluto inserire nel deliberato e che ho già detto nel mio intervento di oggi Presidente la spesa dei fondi europei di tutti i miliardi che ci sono arrivati in questi anni in altre regioni d'Europa ha cambiato il volto di quelle regioni nella nostra regione è servita a fare le fontane nelle piazze e a riparare le buche salvo poi accorgersi all'ultimo minuto che non eravamo riusciti a spenderli e utilizzare il criterio dell'accelerazione della spesa quindi l'esatto contrario dell'obiettivo dei fondi che riceviamo che dovrebbero servire per interventi strutturali e strategici tesi a rimuovere il divario con le regioni settentrionali ora se andiamo a guardare i dati relativi all'attuazione dei fondi FESR FSE al 31-12 2019 cioè prima dello shock economico c'è poco da celebrare per la capacità di spesa della regione campagna è chiaro che poi li abbiamo spesi perché li abbiamo dedicati all'emergenza covid e quindi è aumentata la percentuale di spesa ma siamo seri facciamo le persone serie dentro il deliberato non poteva mancare quindi la richiesta del rafforzamento della capacità amministrativa del nostro ente è un'attenzione massima all'efficacia e all'efficienza della spesa perché questi fondi che arriveranno noi ci auguriamo copiosi dovranno realmente servire per diciamo fare una sterzata di 180 gradi e riportare in carreggiata la nostra regione che proprio in carreggiata non è per nessuno dei parametri della qualità di vita nessuna polemica politica presidente lei non è d'accordo io mi posso esprimere o non posso è perfetto allora assolutamente è un auspicio presidente la qualità della spesa è essenziale quanto la quantità dei fondi grazie la premessa l'ho ritirata ma corrado matera ti sei benotato no scusa felice De Maiolo solo un chiarimento in commissione io e il collega Vissacana del gruppo misto abbiamo dato a favore posto l'altro collega di minoranza votato un chiarimento politico poi lasciamo stare eh vabbè questo è la chiave giusto il gruppo misto è fatto da maggioranza e da minoranza la parte la minoranza votato lo stesso gruppo misto eh allora Fulvio Frezza però ti prego Fulvio sei molto stringato perché così è il mio primo intervento tu stai stanco oggi no no sono andato avanti e indietro però non mi sento assolutamente stanco allora io credo che sia un momento importante oggi in aula perché questo documento questo documento rappresenta un momento di unità io mi sono indaffarato ad andare avanti e indietro a parlare con i colleghi di maggioranza con l'opposizione pur sapendo che le premesse sono la parte politica che può avere una sua fondatezza un suo messaggio e un contenuto fondamentale credo che la parte più importante di tutto sia il deliberato e questo è stato il frutto di un lavoro che ha un'unica finalità e un unico obiettivo quello di rendere uniforme la volontà di questo Consiglio regionale di affidare nelle mani del nostro Presidente un mandato preciso noi tutti unitamente sulla parte che costituisce l'invito a prendere delle posizioni precise siamo uniti con te affinché possa tu portare queste nostre istanze a nome dei cittadini che rappresentiamo nei luoghi istituzionali proposti per rendere giustizia a un maltotto che seriamente e in maniera anche credo molto efferata vada a colpire in maniera colpevole ciò che è il destino dei nostri cittadini già nella premessa di ciò che riguarda il piano di ripresa e resilienza o recovery plan nazionale si parla di coesione il nostro Governo parla di coesione allora spiegatemi com'è possibile che un termine coesione che dice tutto che tiene insieme tutti deve partire dal presupposto che le Regioni del Sud che hanno determinato con le loro con i loro parametri la crescita di questo valore esponenziale fino ad arrivare a 209 milioni devono pagare sulla loro pelle in mancanza di servizi ciò che realmente ci spetterebbe non vado oltre non c'è bisogno perché è chiaro a tutti quello che voleva contenere il documento è chiaro a tutti che il mandato che affidiamo nelle mani del nostro Presidente è quello che già sta portando avanti nelle riunioni con gli altri Presidenti e consigli regionali del Meridione come diceva la collega Cerambino l'invito è andare avanti su questo fronte noi saremo tutti con te Presidente affinché rendiamo giustizia a questo grande torto che il Sud per l'ennesima volta sta subendo a danni di un governo che è strabico fa finta di vedere tutto ma da un lato guarda con un occhio ciò che interessa e dall'altro lato fa finta di guardare noi che siamo più lontani dagli altri quindi a questo proposito a nome anche dei filmatari della maggioranza e mi pregio di rappresentare anche loro in questo momento solo per il fatto che sono andato a raccogliere tutte le firme e elaborare delle modifiche ritiriamo anche noi la parte che riguarda il premesso e ci affidiamo soltanto alla parte di deliberato e chiediamo di metterla in votazione passiamo in votazione a Muscala soltanto 20 secondi non sarò lunga come gli altri ma vorrei soltanto sottolineare una cosa che si è parlato si è parlato tanto ma non si è parlato di numeri i numeri invece sono quelli che ci possono dare il segnale forte di quello che bisognerà andare a fare quando si andrà a combattere questa battaglia dal 2001 al 2019 al sud sono state attribuite sempre e soltanto il 25% delle risorse stanziate per l'intera penisola sono 20 anni che il sud subisce questo affronto 850 miliardi sono quelli che ci sono stati rubati negli ultimi 17 anni la comunità europea ha deciso che il 28% delle risorse complessive rispetti all'Italia questo significa 65-70% al sud chiunque in maniera anche come se fosse una graziosa elargizione ci parla del 40% sta già sottraendo sviluppo e speranza al nostro territorio quindi l'invito a fare questa battaglia a farla tutti quanti insieme penso che sia quel doveroso da parte di tutti senza che nessuno faccia passi indietro bene dato che comunque il documento è stato letto sottoscritto lavorato da tutti inutile che passo a leggere la parte finale votiamo questo provvedimento e siamo sicuri che il presidente De Luca saprà portare avanti le istanze della nostra regione e auguri presidente auguri a tutti poi ci sono gli altri altri ordini del giorno il presidente se lo poi noi questi li facciamo noi ci sono gli altri ordini del giorno vi leggo questi allora registro generale 5-4 emergenza sanitaria Covid-19 chi è a favore ha votato all'unanimità registro generale 6-4 centro sportivo paradisi di Soccavo chi è a favore votato all'unanimità registro generale 7-4 costituzione organismo europeo di governo emergenza sanitaria e transnazionale chi è a favore votato all'unanimità registro 10-4 del 16-12 scusami scusate colleghi finiamo di votare gli altri ordini del giorno un po' di pazienza 5 minuti e finiamo colleghi 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 accomodatevi colleghi ci stanno gli altri ordini del giorno per il rispetto dei colleghi che li hanno presentati stiamo tranquilli 5 minuti ma che riprendiamo scusami mia patriarca eh sedi se ti vuoi sedere ti sedi allora prego mi dica benissimo allora noi abbiamo votato a favore della riduzione del 50% dell'addizionale non ho il numero di registro generale non si legge 16-4 bene ok abbiamo votato a favore dell'11-4 e abbiamo votato a favore dell'11-4 l'onore l'abbiamo votato e quale ha votato abbiamo votato il registro 5-4 e abbiamo votato a favore il registro 6-4 con il centro sportivo paradisi di Soccato su questo ci assegniamo vi astenete benissimo il centro-destra che fa sul Soccato sul Soccato che fa il centro-destra scusami è un ordine del giorno per il centro sportivo di Soccato si astiene il centro-destra quindi a maggioranza Costituzione Organismo Europeo di Governo di Emergenza e Sanità Transazionale a favore di Fulvio Frezza ci asteniamo si astengono votato a maggioranza su Soccato siete a fondo non siete d'accordo però siete a tre ma non siete d'accordo e lo so ma io dato che Natale non lo voglio passare assieme a te faccio sono veloce allora registro generale 11-4 registro generale 10-4 affirma Zinzi Nappi e Pirro sono d'accordo 10-4 e ti leggo che dice messa in mora dell'Italia da parte della UE per l'enorme contenuto nella legge 145 e la bocca stai no noi non ci asteniamo allora i 5 Stelle votano contro il Partito Democratico che fa? no noi ci asteniamo Presidente si astiene il Partito Democratico si astiene vota contro Zinzi Nappi e Pirro se state a sentire i 5 minuti messa in mora dell'Italia da parte della UE per l'enorme contenuto nella legge 145 2018 sulle concessioni degli stabilimenti barneari praticamente loro si allora su questo dobbiamo dare a favore allora chi è a favore a maggioranza con l'astenzione dei 5 Stelle l'ordine del giorno è approvato registro generale 11 barra 4 a firma di Gennaro Olivir chi è a favore voglio chi è qui all'unanimità è approvato registro generale 13 barra 4 recovery fund risorse del sud questo l'abbiamo superato quest'altro pure è superato il 15 barra 4 fondi per i sostegni all'edilizia scolastica regionale a firma della patriarca la quale se ne voleva andare prima chi è a favore la regione in realtà già predispone il piano per l'edilizia scolastica e finanzia gli interventi su una serie di linee quindi lo trovo ridondante e voglio dire anche un'altra cosa le nostre astenzioni sono frutto del mancato approfondimento degli atti perché li abbiamo ricevuti 5 minuti fa in aula questi ordini sono richiamati dalla passata conferenza non sono dipensitati sono richiamati tutti in conferenza veramente non ne avrei parlato per carità benissimo fondi per i sostegni all'edilizia scolastica come si vota chi ha favore allora 5 stelle si astengono il PD si astiene la patriarca giustamente col voto favorevole del centro-destra è approvato perché 6 voti approvano l'ordine del giorno registro generale 16-4 del 23-12-2020 riduzione del 50% dell'addizionale IRPEF nelle aree interne della regione Campania a firma di Oliviero ed altri chi è favorevole all'unanimità è la firma di tutti e questo è stato firmato da tutti quindi signori l'ordine del giorno l'abbiamo esaurito in tempi quasi europei vi auguro a tutti buon Natale e a presto vederci la seduta è tolta e ora passiamo ad un'altra grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti